3, 2, 1. Siamo puntualissimi direi dal vivo su YouTube in streaming con la seconda giornata del convegno racconti paralleli, la delegittimazione della scienza tra media, tecnologia e immaginario. Come vedete ci sono tutti i relatori pronti, intanto voglio ringraziare gli spettatori che già stavano in attesa, manco fosse un concerto di Bon Jovi e quindi noi ne siamo assolutamente felici, vi ringraziamo di nuovo anche per tutti quelli che ci hanno seguito ieri, siamo stati molto soddisfatti e insomma credo che la giornata al di là del pubblico sia andata molto bene e siamo venuti fuori delle belle discussioni. La qualità delle relazioni era veramente notevole, lo sarà anche quella di questa mattina, non dico altro se non che appunto la sessione di questa mattina si chiama linguaggi, abbiamo dato dei nomi chiaramente così piuttosto ampi rispetto ai temi, abbiamo provato a incorniciare delle sessioni che in realtà poi però sono molto legate fra loro, quindi proveremo a ragionare del tema del convegno attraverso linguaggi e prospettive diverse anche questa mattina. Mi taccio ringraziando i relatori e il comitato scientifico che per esempio nella persona di Antonio Catolfi che è appena entrato e che saluto e ringrazio tanto, è stato presente, insomma Marco Tonon ha un'operazione sul comitato scientifico, quindi siamo stati supportati, ci sono stati vicini e questo è molto importante. C'è Bruno Furace del comitato organizzativo, Mario Tirino poi ci raggiungerà. Chi cura con me questo convegno e che è certamente molto più intelligente e capace di me è Lorenzo De Nicolai, chair di questa prima sessione al quale affido totalmente il coordinamento della giornata. Lorenzo, grazie e buon lavoro. Grazie Giacomo, grazie anche da parte mia a tutti voi, insomma, presenti. Sono anche io molto contento di come sia andata la giornata di ieri, molto ricca di interventi, di spunti. Questa mattina iniziamo con il panel dedicato ai linguaggi e tema e comunque titolo che abbiamo voluto assegnare per indicare un'apertura, una visione interdisciplinare e multidisciplinare che oggigiorno è fondamentale nella trattazione certamente della scienza ma in generale del sapere, no? Ovviamente linguaggi vuol dire anche avere a che fare con dei codici, avere a che fare con degli insiemi di segni, avere a che fare con delle significazioni, con dei tentativi di costruzione di significato, di sensi e vuol dire anche cercare di capire come varie discipline possono dialogare fra di loro per dare forza e sostegno alla costruzione del sapere. la mattinata è piuttosto densa, quindi io se siete d'accordo inizierei immediatamente con l'introduzione dei primi relatori e la mattinata ci accompagna poi alla relazione del keynote di Luca Bonfanti che continuerà a trattare un po' il tema della divulgazione della scienza proprio a cavallo dei confini, quindi in qualche modo andando a toccare varie aree, varie tematiche che in qualche misura abbiamo già provato a esplorare nella giornata di ieri e che esploreremo e continueremo ad esplorare in tutto quest'oggi. Allora, io inizierei a introdurre i primi due relatori, secondo programma, che sono Marco Davide Tonon e Anna Perazzone dell'Università degli Studi di Torino. Marco Davide Tonon è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino e si occupa di didattica di Scienze della Terra e delle Scienze Naturali e di educazione alla sostenibilità nel contesto di formazione dei docenti di scuole primarie e secondarie. È autore e coautore di 60 articoli pubblicati su alcune riviste e libri internazionali dedicata alle scienze naturali, all'educazione ambientale e alla sostenibilità. È il direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario IRIS, che sta per Istituto di Ricerca Interdisciplinare sulla Sostenibilità e per quanto riguarda il campo di ricerca si concentra sullo sviluppo di metodi di insegnamento innovativi da implementare in natura, come l'outdoor education e l'art-based learning, per migliorare i processi di insegnamento e di apprendimento delle Scienze Naturali. Anna Perazzone è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino e docente di fondamenti di didattica di Scienze della Vita presso il corso di studi di Scienze della Formazione Primaria, fin dai primi anni della sua attivazione. Si occupa di processi di insegnamento e apprendimento nell'ambito della biologia, ridefinendo i contenuti e i metodi alla luce della sostenibilità ambientale. Quest'oggi il loro intervento ha un titolo piuttosto evocativo e anche piuttosto forte rispetto al nostro convegno, perché il titolo della loro relazione è La Scienza che si delegittima da sola. Marco, Anna, a voi la parola, credo che intervenga esclusivamente Marco, se Anna vuole intervenire siamo felicissimi ovviamente che potete sentire anche lei e grazie a voi e buon lavoro. Grazie, condivido la presentazione. Allora, beh, questo intervento diciamo che si connette molto bene con l'ultima parte della giornata di ieri, dove nella presentazione del libro sembrava solo un'influenza la professoressa Mazzoli a un certo punto ha detto che giustamente l'informazione in questo periodo di emergenza Covid è stata delegata dagli scienziati che hanno cominciato a parlare in pubblico, al grande pubblico attraverso i sistemi mass mediatici e sono in effetti diventati i grandi divulgatori di oggi. Ci si potrebbe chiedere però con quali effetti questa comunicazione ha agito sul grande pubblico. In questo contributo noi vorremmo provare in qualche modo a mettere in evidenza l'altra faccia della medaglia, cioè quella di una scienza che non è tanto, cioè è un po' incapace di narrare se stessa. Arriva addirittura a delegittimarsi da sola veicolando un'idea di scienza piuttosto falsa all'interno di quello che è un paradigma piuttosto antico, vetusto e semplicistico che fa coincidere il sapere scientifico con la verità assoluta e che mostra la tecnologia come uno strumento che è la soluzione per ogni problema. Ultimamente infatti non è così raro assistere a monologhi di scienziati che in qualche modo coadiuvati dai mezzi di informazione ci propinano addirittura con una certa arroganza e supponenza le loro certezze, sciorinando dati scelti ad hoc che in qualche modo orientano l'opinione pubblica, senza però stimolare il benché spirito critico. In alcuni casi, soprattutto quando il dibattito coinvolge anche la sfera valoriale, dietro questi dati scientifici privi di ogni forma di trasparenza, i cittadini vengono spesso fatti passare come ignoranti, irrazionali, inclini a percepire rischi e che alimentano dubbi laddove la scienza pare non ne abbia. Nella narrazione che la scienza e la tecnologia propongono di sé spesso non vi è spazio per l'incertezza, nonostante sia ormai evidente, ma questo lo sanno tutti i scienziati, che quando le conoscenze scientifiche aumentano si dilata contestualmente la sfera della nostra ignoranza. Vorremmo poi fornire due esempi abbastanza esplicativi di come la scienza mostra se stessa in modo apparentemente antitetico. Da un lato si assiste spesso a studi scientifici che vengono delegittimati proprio perché le persone percepiscono delle false sicurezze e una scarsa trasparenza. Dall'altra, contemporaneamente assistiamo invece a cittadini che si affidano in modo totalmente critico a quelle che sono le proposte tecnologiche che portano inevitabilmente alla soluzione del problema, senza che essi però possano prendere parte attiva nel processo di cambiamento. Nei contesti in cui i livelli di incertezza e gli interessi in gioco sono molto alti, questa scienza riduzionista, cioè il paradigma riduzionista scientifico dominante, dovrebbe lasciare il posto invece a quella che Funtovitz e Ravec già negli anni 90 avevano definito come la scienza postnormale. C'è una scienza che prevede un coinvolgimento, un rispetto per i cittadini, una partecipazione, una trasparenza. Se confrontiamo questi due paradigmi della scienza, cioè il paradigma della semplificazione che porta alla costruzione del mito della scienza e poi il paradigma della complessità che invece è la realtà scientifica, possiamo notare come ci siano delle profonde differenze. Sono proprio queste, è proprio il paradigma della semplificazione che porta a questi due, a queste due visioni antitetiche, cioè la scarsa fiducia nel dato scientifico e contemporaneamente invece la cieca fiducia nella tecnologia. Secondo questo paradigma della semplificazione, l'oggetto scientifico, la scienza fornisce una verità assoluta, mentre ovviamente tutti gli scienziati sanno che la scienza fornisce dei dati, costruisce delle teorie che hanno un certo grado di affidabilità, che può essere anche molto alto, ma che non potrà mai arrivare alla certezza assoluta. Dopodiché si pensa che la scienza sia, esista una presunta oggettività scientifica e per questo porta a pensare che gli scienziati siano sempre tutti d'accordo sulle loro tesi, mentre ovviamente ci si deve aspettare che gli esperti non siano tutti d'accordo, come abbiamo visto in televisione, sui sistemi massimidatici in questo periodo, i vari virologi, anche perché oltre ai dati scientifici entrano in gioco sempre idee, sistemi di valore, opinioni, differenze, posizioni politiche. Dopodiché la scienza non è una sola e in fondo quello che ci hanno sempre insegnato a scuola il classico metodo scientifico non è un metodo unico, un protocollo inattaccabile, in realtà la scienza non è unica, ci sono tante scienze, ognuna utilizza un determinato metodo scientifico, ma che non è assolutamente unico. L'altra cosa collegata al discorso della cieca fiducia nella tecnologia è legata agli ultimi due punti. Il principio di rilevanza, per cui la verità scientifica in qualche modo non è connessa all'applicazione che poi la società fa di quella scoperta, di quell'oggetto scientifico, mentre la realtà ci dice che ovviamente esiste un principio di rilevanza e lo scienziato non è imparziale, non deve essere imparziale rispetto poi all'applicazione della sua scoperta scientifica. L'ultimo mito è quello che appunto crea la cieca fiducia nella tecnologia che viene vista come la soluzione dei problemi che in qualche modo deresponsabilizza l'individuo rispetto alle scelte quotidiane che fa. Proviamo a analizzare i due casi di cui parlavo prima. Uno ovviamente è la vicenda AstraZeneca di cui tutti abbiamo sentito parlare. Quando ci sono stati i primi casi di gravi effetti del vaccino, inizialmente a marzo di quest'anno sono usciti un sacco di titoli sui giornali che recitavano del tipo l'AstraZeneca sicuro, fidatevi, il lotto è stato ritirato solo per caudera, nessun rischio. Chiaramente questa certezza assoluta dell'inesistenza di un certo rischio, della sicurezza assoluta ha generato nella popolazione tutta una serie di emozioni, dalla paura alla non comprensione, alla confusione, l'insorgenza di mille dubbi e poi anche a un certo livello di arrabbiatura nei confronti di questo tipo di comunicazione. Per cui dopo un po' insomma si è cambiato strategia, poco dopo si è cominciato a dire vabbè ma i benefici, c'è una certa dose di rischio giustamente come in qualsiasi cosa. In realtà è vivere rischioso, rischiamo la vita in ogni istante, non la vita ma rischiamo vivendo in ogni istante che ci accada qualcosa di spiacevole e chiaramente questo è legato al livello di probabilità che ci accade. Quindi benefici superano i rischi, via libera ai vaccini, benefici superano i rischi di molto. L'Organizzazione Mondiale recita in un suo documento in ampie campagne di vegetazione è normale che i paesi segnalino potenziali eventi avversi a seguito dell'immunizzazione, ciò non significa necessariamente che gli eventi siano legati alla vaccinazione stessa, ma è buona norma giustamente indicare su di essi. Ma anche il livello di sorveglianza funziona, mostra anche che il livello di sorveglianza funziona e che sono in alto contro l'efficienza. Però se allora è normale che ci sia la potenziale eventi, allora si poteva prevedere e prevenire tutto questo caos mediatico, non inizialmente fornire la certezza assoluta che non ci sarebbe stato nessun tipo di rischio. Se andiamo a vedere come è stato sviluppato e come è stato il vaccino, cominciamo a spiegarsi alcune questioni. Innanzitutto ci sono tutta una serie di fasi nell'allestimento della preparazione vaccinale e della stima, diciamo, del suo grado di rischio. Nella fase 1 il vaccino viene testato sul numero di persone, che sono poi solo alcune decine, solo per vedere se è tollerabile dall'organismo umano e per stimarle la gravità. Se non succede nulla di grave c'è una seconda fase che coinvolge a questo punto qualche centinaio di persone. In questo caso si stima anche gli effetti tossici sia legati all'immunogenicità per capire se c'è una effettiva risposta immunitaria. La fase 3 poi è quella di prova su larga scala, ma che in realtà anche qui vuol dire avere un campione selezionato di qualche decina di migliaia di persone volontarie in cui c'è un trial clinico controllato in cui c'è un confronto tra la somministrazione del vaccino e la somministrazione di una sostanza placebo per confrontare le due situazioni. Oggi ci troviamo in realtà nella fase 4 che è quella legata a un grande, forse il più grande esperimento di massa a livello mondiale sugli effetti di questo vaccino. In realtà quindi, dicevo, non esiste un grado assoluto di sicurezza. Nessun vaccino, nessun farmaco, anche quelli normali che prendiamo, che sono per un buon anno e mal di testa, non sono esenti da rischi. Dopodiché c'è un livello di rischio legato alla percentuale di razioni avverse. Come si è comportato il Regno Unito, che è quello che in qualche modo ha la più grande mole di dati su cui ha fatto una serie di indagini? Beh, l'interregolatore britannico ha monitorato diversi effetti avversi attraverso un più programma che non so se sapete, se ne siete a conoscenza, si chiama Yellow Card, cartellini gialli, che in realtà segnalano, su segnalazione volontaria, quindi qualsiasi cittadino compilando questa Yellow Card poteva segnalare gli effetti avversi, anche quelli lievi, diciamo banale febbriciola, male all'articolazione, mal di testa, eccetera, rispetto alla sommizzazione del vaccino. E cosa ci dicono questi dati inglesi? Circa, diciamo, una decina di giorni fa c'erano più di 32 milioni di vaccinati con il 2,11% di razioni avverse registrate da questo sistema e sono stati poi registrati tutti i casi di morte sopraggiunti dopo la somministrazione, badate bene, non correlati all'effetto del vaccino, ma morti che casualmente sono avvenute nel periodo post-vaccinazione. Complessivamente questi morti sono stati 961, che rappresentano diciamo 30 casi su un milione di vaccinati. Ripeto, però, morti non correlate, ma semplicemente legate a alcuni fenomeni di casualità temporale, un po' come se io, se mi venisse un infarto dopo una settimana di aver bevuto una bottiglia di Barbera e potessi imputare il fatto che il Barbera è tossico e provoca la morte. La probabilità, in realtà, se andiamo a vedere in altri ambiti di cui si è sentito parlare molto poco, del grande problema ecologico che è anche quello, è pandemico, ma da molti anni, la probabilità di morire a causa dell'inquinamento della polvere sottile in Italia, per esempio, è tre volte superiore a quella relativa ai presunti effetti nefassi del vaccino. Però nessuno di noi si sogna di andare in giro, cioè di non uscire a passeggio a Torino, che peraltro è una delle città più inquinate d'Italia, e nessuno di noi, insomma, si è mai sognato di indossare una mascherina. Questo è l'esempio del modulo della Yellow Care Glaive. Non so se voi sapete che anche in Italia esiste la possibilità di effettuare segnalazioni all'AIFA di razioni avverse, ma questa cosa non è stata assolutamente pubblicizzata sui sistemi masmediatici, in realtà la percentuale di queste registrazioni è stata piuttosto bassa e fondamentalmente sono state registrate le reazioni solo dal personale sanitario e non dalla popolazione. Quindi un'obvietà scientifica in realtà è diventata un tabù. Vorrei farvi riflettere su questa serie di punti. I vaccini, in fondo, come ho detto, come qualsiasi farmaco, possono provocare danni più o meno gravi all'organismo, in questo caso anche la morte. Questo ovviamente dipende dalla storia medica di ciascuna persona che assume quel farmaco e dell'ambiente di vita, delle condizioni di vita nel quale si trova. A consenso di 15 minuti, scusa. Ok, grazie. Cerco di stare nei tempi dei venti. In Italia questa vietà scientifica però è spesso diventata un tabù. Lo scontro ideologico spesso alimentato degli scienziati non ha fatto che aumentare spesso la sfiducia nella popolazione rispetto alla questione dei vaccini. È chiaro che lo scetticismo invece si combatte soprattutto con la trasparenza, con una comunicazione chiara, trasparente, esplicativa e che assolutamente non propaganda delle false sicurezze. Tutto questo può avvenire con il coinvolgimento della popolazione, non certo con l'arroganza e la supponenza scientifica. È chiaro che se in questo caso, nel caso dei vaccini, si è applicato un principio di precauzione, giustamente, ma se lo scetticismo è esploso non stupisce perché il tipo di comunicazione è stato piuttosto, diciamo, se vogliamo, semplicistico. Quindi trasparenza e coinvolgimento in realtà educano. E questo perché le persone, se si sentono parlare in modo trasparenza e se vengono coinvolte e a cui vengono spiegati il senso dei dati scientifici, acquisiscono una fiducia maggiore. L'altro esempio in questi ultimi due minuti che vorrei farvi, tre minuti, è relativo a quando la tecnologia, oggi la tecnologia green diventa l'assoluzione dei problemi. In questo schema vediamo come lo scienziato non è immune all'ambiente di vita nel quale si trova, ha un contesto personale legato ai suoi limiti, ai suoi valori e ai suoi pregiudizi, vive in un contesto scientifico, economico e sociocolulare che inevitabilmente influenza il suo modo di procedere alla ricerca. E allora in questo contesto spesso le tecnologie vengono proposte dai scienziati come la soluzione del problema. Ma questa soluzione tecnologica spesso a me nasconde una realtà ben diversa, una realtà legata a enormi business che spesso fanno le società private anche utilizzando soldi pubblici e che in qualche modo fanno un'operazione di greenwashing, cioè cercano di costruirsi un'immagine ecologica, soprattutto oggi in questo periodo dove peraltro nel nostro paese ci sono 290 miliardi da spendere in buona parte su quella che viene definita transizione ecologica. Vi faccio vedere un esempio abbastanza emblematico di soluzione tecnologica, quella legata al stoccaggio geologico della nere carbonica. Dato che abbiamo un problema di aumento dell'effetto serra, il principale gas serio è la nere carbonica, qualcuno ha pensato che questa nere carbonica si potesse immettere, liquefato, disciolta in particolare i solventi all'interno di formazioni geologiche in profondità, almeno a mille metri di profondità all'interno della crosta, in vecchi giocimenti petroliferi o di gas naturale o di carbone. Questa sperimentazione sta già avvenendo da molti anni, per esempio esiste un centro, un laboratorio, il Tecnological Center di Mondstan in Norvegia, inaugurato nel 2012, che peraltro è il più grande impianto sperimentale mai realizzato al mondo, che cattura e sequestra la CO2 e questa centrale è stata finanziata in parte anche dal governo norvegese ed è costata quasi un miliardo di euro. Qui vengono testate un paio di tecnologie gestite da una ditta francese e da un'altra norvegese che utilizzano dei solventi nei quali la CO2 viene disciolta e poi viene pompata all'interno di questi giacimenti litosferici. Questo impianto è in grado addirittura di processare 100.000 tonnellate di CO2 l'anno. La cosa interessante è vedere le bandiere che sono appese vicino a questo centro tecnologico. Non so se nell'immagine piccola si vede, ma ci sono bandiere della Total, della Shell e di società che gestiscono il gas in Norvegia. Ecco, questo approccio scientifico e tecnologico ha una premessa che non è assolutamente vera, quella di poter gestire tecnologicamente il nostro pianeta e i nostri ecosistemi come se fossero delle macchine di cui perfettamente conosciamo il funzionamento. Un po' come se un meccanico cercasse di aggiustare un motore conoscendone solo il 30-40% del suo funzionamento. Quell'immagine che vedete è un'immagine presa da una copertina della rivista Le Scienze, dove vedete che c'è questo uomo addirittura fuori dal sistema Terra, fuori dal sistema nel quale vive, che conoscendo perfettamente la macchina Terra la smonta e cerca di aggiustarla. Quali sono le contraddizioni ed effetti collaterali di questa soluzione tecnologica che vi ho proposto? Beh, spesso in questo caso è finanziata dalle stesse compagnie petrolifere per giustificare la continua comunque estrazione di combustibili fossili. Si dice, vabbè, continuiamo a utilizzare i combustibili fossili perché tanto la CO2 poi prodotta dalla loro combustione la andiamo a nascondere nella crosta terrestre. Questo sistema peraltro è un sistema che può servire per recuperare ulteriore petrolio e gas naturale dei giacimenti, quindi in grado di aumentare addirittura la produzione di combustibili fossili. È utilizzata chiaramente e può essere utilizzata su paesi ricchi, tecnologicamente avanzati, che peraltro che cosa fanno secondo gli accordi nazionali, anche dell'accordo di Parigi del 2015, possono vendere la loro quota di CO2 non prodotta, nel senso prodotta ma sequestrata e quindi nascosta, ai paesi che invece non hanno queste tecnologie, quindi alla fine ci guadagnano anche delle ingenti somme di denaro. Questi impianti hanno altissimi costi di costruzione e manutenzione e questi costi in realtà potrebbero essere devoluti a finanziare invece altre fonti energetiche alternative e rinnovabili. Impiegano enormi quantità di energie che poi bisognerebbe andare a vedere anche come sono prodotte a fronte in realtà di una riduzione globale e totale rispetto al sistema terra piuttosto limitata, senza contare che ci sono degli effetti, possono esserci effetti sul medio e lungo periodo sulla crosta terrestre perché l'emissione di questi flui di impressione potrebbe generare un'instabilità geologica inquinamenti di falda, esattamente come quelli generati dalla tecnica del fracking usata negli Stati Uniti per estrarre il petrolio delle scissi bituminosi. Ecco, spesso quelle di queste tecnologie sono invece un grande business per le società private che appunto tendono a costruire una nuova immagine attraverso il greenwashing. Per concludere dico che appunto queste soluzioni tecnologiche portano a una responsabilizzazione del cittadino che a questo punto si affida ciecamente alla scienza ed evita di sentirsi parte del problema. In qualche modo lo stimolo etico perde di efficacia, un po' come se dicessimo, beh, così possiamo continuare tranquillamente a bruciare combustibile, pubblici su due, tanto qualcuno per noi poi cercherà di riasservirla. Si potrebbe dire che invece solo attraverso un processo graduale educativo, a partire fin dalle scuole primarie per creare una nuova immagine di scienza e di scienziati che si può ottenere una consapevole assunzione di responsabilità e un cambiamento durativo e una serie di vita di tutti quanti che può fornire alle future generazioni un mondo veramente più sostenibile. Grazie Marco, grazie ovviamente anche ad Anna. Sono ovviamente delle indicazioni, degli spunti di estremo interesse. Io ho segnato alcune cose, ne parliamo poi al termine della mattinata. Io però sono astigiano e confermo che col Barbera non si muore. Poi con Giacomo, visto che fanno col ditino, parliamo di questo approfonditamente. Allora, ritorniamo poi ovviamente su tutto ciò che hai presentato, perché dà degli spunti di indagini, di approfondimento di estremo interesse. Passerei alla seconda speaker, che è Victoria Dos Santos. Recupero immediatamente la nota biografica, vi chiedo scusa. Allora, Victoria Dos Santos ha una laurea in scienza della comunicazione conseguita presso l'Università Anders Bello di Caracas e un master in giornalismo presso l'Università di Barcellona nella Columbia University. Attualmente è dottorando di ricerche in semiotica e media presso l'Università di Torino. Il tema di ricerca è relativo alle religioni emergenti nel contesto digitale e più specificamente il tecnopaganismo. Ha pubblicato articoli sulle esperienze religiose attraverso l'Avatar e sulle espressioni ritualistiche attraverso il cyberspazio. Questa mattina la relazione ha il titolo Tecnopaganesimo, spiritualità digitale nella contemporaneità. Victoria, a te la parola, anche per te circa 20 minuti. Perfetto, grazie mille Lorenzo per la presentazione. Io ti do un segnale. Ok, perfetto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Adesso condivido la finestra. Ok. Si vede bene, vero? Sì, sì. Perfetto, grazie mille. Prima di tutto vi ringrazio per questo bellissimo evento e mi escuso in anticipo perché il mio italiano non è davvero il massimo, ma cercherò di fare questa lettura il più semplice possibile. Quindi la mia presentazione è sul Tecnopaganesimo, è una religione contemporanea, possiamo dire una specie di religione contemporanea nello spazio digitale. Considerando che quasi tutte le religioni hanno una presenza online, non sarebbe strano parlare di come alcune pratiche hanno potuto svilupparsi, popolarizzarsi e anche modificare la loro struttura all'interno delle reti virtuali. Nonostante questo coinvolgimento, non solo si riferisce al modo come le religioni possono usare il mezzo digitale per portare avanti le loro pratiche, ma invece di come le tecnologie digitali, pensate in un inizio come una delle cause del desincanto del mondo, seguendo la testa di Max Weber, inspirano invece ideologie e pratiche spirituali o religiose. Questo è il caso del Tecnopaganesimo, un fenomeno che è emerso durante gli anni 90, giustamente quando tante teorie e presupposti tecnomisticisti cercavano di dar senso alle esperienze vinculate alla nascente rete digitale. A questo punto parlare di Tecnopaganesimo ci obbliga a esplorare la significanza del coinvolgimento religioso nel contesto digitale e come certe pratiche strettamente legate ai dispositivi computazionali hanno iniziato ad avere valori religiosi o ad essere utilizzati per pratiche legate allo spirituale. Prima di tutto un po' di contesto, prima di entrare già al nucleo della discussione, la scessa delle religioni, non tradizionale del misticismo orientale, più la comparsa della cibernetica alla rivoluzione culturale degli anni 70, hanno contributo a creare uno scenario ibrido in cui in media la tecnologia e le esperienze occulte erano estrettamente correlate. A questo proposito non è strano che internet e la cultura digitale abbiano dato origine a un fascino esoterico e mistico dai loro inizi, promuovendo o sviluppando una varietà di discorsi religiosi ed esoterici e dando anche origine a una sorta di tecnomisticismo circunstante. Basta guardare il lavoro di autori e tecnoentusiasti degli anni 90 e inizi del 2000 come Eric Davies, Kevin Kelly, Brenda Brasher, Jennifer Cobb o Mark Pesch, per i quali la dimensione spirituale del ciberespazio era notevole e potente. In questo senso, sia che il mezzo computazionale sia diventato un evento spirituale per gli esseri umani, o che il ciberespazio abbia il potenziale per aprirci a nuovi modi di vivere il mondo, quella componente magica e cosmologica, che sembrava essere scomparsa durante la modernità, è stata riproposta all'interno di una delle più grandi innovazioni tecnologiche della umanità, la macchina digitale. A questo punto, il mezzo digitale rappresenta non solo uno spazio di incontro tra gli utenti, ma anche uno spazio di comunicazione con ciò che consideriamo, scusatemi, sacro, con il luminoso e con quelle altre cose che verrebbero a comporre l'immaginario magico di tante culture. Margaret Wertheim l'aveva già sottolineato, assicurando che l'Internet sarebbe venuto a riconvalidare lo spazio dell'anima, così come lo spazio fisico. Il ciberespazio, infatti, condivide con la religione quella caratteristica di mediatore immateriale, collegando il mondo visibile delle interazioni umane con il mondo invisibile degli spiriti, degli dei e del trascendentale. Sarebbe sufficiente vedere le interpretazioni spirituali di molti utenti, quando portano avanti pratiche di fede nell'ambiente dei videogiochi, o visitano tempi digitali e in comunità 3D, o persino svolgono ceremonie ancestrali attraverso dispositivi elettronici e tecnologie di realtà virtuale aumentata. Queste condizioni, insieme alla caratteristica dei media digitali, come sono la connettività e l'ubiquità, hanno contribuito a sperimentare l'Internet come una rete spirituale, consentendo la manifestazione di tutti i tipi di pratiche religiose. Questo può essere riconosciuto, ad esempio, nelle cyber-chiese cattoliche o nelle ceremonie virtuali buddhistiche che si diffondono in numero nel web. Adesso, in questo incontro fra motivazione spirituale e ambiente digitale, emerge quello che si conosce come religione digitale. Quel processo di dialogo tra tecnologia e spiritualità, con le loro formazioni estetiche, è che considerano la tecnologia come un punto di incontro o addirittura una parte importante del reale, generando altri paradigmi in cui le tecnologie della comunicazione influenzano il modo in cui le persone praticano o percepiscono la religiosità. Pertanto, Internet viene descritto come un nuovo tempio elettronico o anche uno spazio sacramentale. Tuttavia, questa situazione ha generato molti dubbi, principalmente nella maggioranza della religione tradizionale o la religione del libro, e alcune delle domande più comune ruotano attorno alla validità del contesto online per generare esperienze religiose autentiche e trasformative. Per esempio, è anche molto valido farci queste domande. Come si sviluppa un rituale online? Come possono essere circonscritti tempi e spazi sacri sull'Internet? Quale trasformazione subisce la comunicazione religiosa in rete? È giustamente per quel motivo che altri tipi di religioni meno ortodosse, meno strutturate, come quelle appartenenti al paganesimo contemporaneo, che non è che siano meno strutturate, ma hanno un'apertura molto più versatile e anche del neopaganesimo. Quindi queste altre religioni sono state una delle prime a formare delle comunità online negli anni 90. Non hanno avuto tanti problemi per adattarsi o readattare i loro discorsi e pratica a questo contesto digitale. A causa della loro natura aperta, dialogica e versatile, la migrazione di quelle pratiche pagane hanno iniziato a dare origine ad altre esperienze religiose motivate dal contesto tecnologico, con una struttura che le fa essere chiamate un sistema di credenza. Come conseguenza della crescente presenza del paganesimo contemporaneo e dell'aura mistica che molti utenti hanno trovato nella sfera virtuale e digitale, hanno iniziato a emergere testi contaminati dell'ambiente digitale e della cibercultura, come il caso del tecnopaganesimo. Un fenomeno che ha avuto enorme popolarità durante gli anni 90, principalmente fra ingegneri di Silicon Valley, riferendosi agli aspetti spirituali delle reti digitali, così come l'uso di dispositivi tecnologici nelle pratiche legate al paganesimo contemporaneo. Il tecnopaganesimo potrebbe essere una delle espressioni più peculiari di questo reincanto tecnologico del mondo, considerando che il risultato della fusione tra media computazionale e i desideri spirituali hanno giustamente originato questa sorta di religione pastiche. Può essere intenso, scusatemi, come un ambiente ibrido in cui la tecnologia e la spiritualità sono correlate in modo tale da essere integrate come una unità inseparabile. In generale, le persone che affermano di essere parte di questo fenomeno si sentono libere di riorganizzare, ricostruire o semplicemente reinventare aspetti della loro vita spirituale, nella maggior parte dei casi attraverso una sorta di monismo nei confronti degli altri esseri o entità, comprese macchine e dispositivi tecnologici. Inoltre, considerando che il tecnopaganesimo riunisce tanti testi diversi, come sono il paganesimo europeo, le tradizioni sciamaniche, alcune sottoculture come cyberpunk ed elementi della fantasia e della cultura popolare, i suoi limiti sono esfogati e non ha una definizione esatta. Tuttavia, è possibile riconoscere due diversi percorsi di questo fenomeno spirituale. Il tecnopaganesimo è quindi quella peculiare fusione tra il neopaganesimo con le sue nozioni animiste, le pratiche magiche e la credenza in una natura sacra con la tecnologia digitale, costituita per i suoi algoritmi, nozioni di scienza e tecnicismi. Quindi possiamo dire che il tecnopaganesimo sarebbe una sorta di sottocultura liminale che abita nella tecnosfera come se fosse un altro spazio appartenente al mondo espirituale. Come avevo detto, possiamo trovare qui due sorti di tecnopaganesimi diversi, o almeno due strade che hanno portato questa categoria religiosa a emergere. Il primo, che sarebbe quello più facile di incontrare adesso anche sul web, sono quelli neopagani che professano la religione online. In questo primo caso, il tecnopaganesimo sarebbe il riadattamento online di varie pratiche appartenenti al paganesimo contemporaneo. In questo caso, il fenomeno tecnopagano sarebbe il risultato della migrazione delle pratiche, di queste pratiche, al contesto online. Semplice. E queste pratiche avrebbero trovato nel mezzo digitale il contesto ideale per il loro sviluppo e diffusione, poiché non sarebbero state delimitate da condizioni come la geografia e problemi di autorità religiosa, facilitando così gli incontri tra i partecipanti indipendentemente della loro ubicazione. Questo è un esempio anche, mi sembra che questo sia del 2009, non è così vecchio, ma è il tipico esempio di un bloc, di un tecnopagano che sarebbe più pagano tradizionale che porta la sua religiosità al web. E' basicamente parlare o vedere come le deità o lo luminoso abita anche qui perché è semplicemente un altro contesto della vita, della natura. E adesso è l'altra, l'altra categoria sono gli ingegneri di Silicon Valley appazionati della tecnologia. In questo secondo caso i programmatori e questi amanti della nascente cybercultura di quella epoca hanno concepito il cyberespazio come quel altro luogo in cui manifestare la magia e raggiungere una riconnessione spirituale. Eric Davies nel suo libro Tecnosis del 98 si riferiva a questi individui come tecnopagani perché nelle loro pratiche intrecciavano il digitale con elementi comuni della premodernità come la magia e il sopranaturale. Qui l'universo cibernetico è inteso come una sfera vivente e mistica che collega il viaggiatore virtuale con altre realtà ed esperienze. L'universo cibernetico quindi inteso come una sfera vivente e mistica che collega il viaggiatore virtuale con altre realtà ed esperienze e quindi la tecnologia computazionale potrebbe consentire la manifestazione di nuove esperienze in relazione alla religione. Per questi tecnopagani romanzi come Neuromancer di William Gibson ad esempio sono molto più che fantascienza. Infatti tanti di loro al momento di iniziare sviluppare questi software alla metà degli anni 90 hanno avuto una sorta di ispirazione il libro di Gibson Neuromancer perché giustamente l'idea del ciberespazio come questa rete che connettava diversi conscienze era come la utopia spirituale che loro volevano costruire. e qui sarebbe un esempio del blog personale del profilo personale di Mark Pech durante gli anni 90 o magari inizio del 2000 e beh basicamente lui descriveva quello che faceva come una sorta di programmazione spirituale quindi tutta la sua attività al momento di programmare questi software erano concepite da uno sguardo e spirituale. Adesso questo certo è durante gli anni 90 ma già entrando nel 2000 la nozione del tecno-paganesimo è diventata molto soletta e anche irrilevante infatti praticamente tutte le ricerche accademiche al rispetto hanno praticamente esparito dopo il 2005 più o meno comunque molti praticanti del paganesimo contemporaneo quindi della prima categoria che ho parlato del tecno-paganesimo continuano a chiamarsi tecno-pagani tuttavia a causa dell'evoluzione digitale dei postulati postumani dei progressi nell'intelligenza artificiale nella robotica e nella realtà stessa il misticismo che circonda le tecnologie è riapparso a questo proposito molte pratiche digitali contemporanee rispondono a quello che è stato definito come tecno-paganesimo sia in un modo diretto o implicito nella maggior parte dei casi possiamo riconoscerli perché celebrano rituali attraverso l'avatar mescolando cultura popolare con nozioni religiose le principali piattaforme dove queste pratiche si sviluppano sono i giochi digitali e le comunità virtuali o anche altri software come quelle che utilizzano tecnologie di realtà virtuale questo modo di rapportarsi agli oggetti circostanti risponde al concetto di animismo questa è un'altra categoria molto importante di avere in considerazione al momento di esaminare il tecno-paganesimo l'animismo può essere descritto come una condizione strettamente legata al pensiero primitivo più o meno capace di collegare le categorie di natura e cultura l'animismo basicamente attribuisce caratteristiche soggettive all'ambiente materiale quindi se per un premoderni una posizione animistica significasse che tutte le creature e gli esseri viventi così come gli elementi del con cui questa persona condivida e condividessi la realtà mi scuso per l'italiano di nuovo tutti questi elementi avessero un'anima invece nell'ambiente contemporaneo gli oggetti e le stanze virtuali non essendo considerate artificiali sarebbero adatti a ospitare il sacro e sviluppare esperienze con il nonoso già non era la natura quella che portava tutto questo incanto tutto questo misticismo adesso è giustamente l'ambiente virtuale Victoria hai sei sui 15 minuti perfetto grazie mille l'importante è che per i tecnopagani i media computazionale possedono una sostanza tutt'altro che artificiale o meramente strumentale invece rappresentano una forma di magia una porta per accedere ad altri plani di connezione o un luogo per incontrare il divino questa concezione condivisa per esempio per corrente come il post umanessimo dove l'interazione con altri oggetti di identità non sono solo reinventate da una prospettiva non strumentale ma sono state stabilite relazioni orizzontali sia con creature non umane che con macchine e altri dispositivi tecnologici condividendo con loro uno status ontologico quasi simile adesso per parlare di tecnopaganesimo nella contemporaneità come religione questa pratica deve avere dell'espressione rituale so che avevo già detto che è un termino che è entrato molto in desuso un po' soletto ma ci sono delle espressioni che continuano a rispondere a questo ideale tecnopagano e lo possiamo vedere principalmente in atti che diretta o indirettamente possono essere riconosciute come ritualistiche ritualistici quindi i riti sono necessarie per l'assistenza di una religione perché confermano e aggiornano i contenuti mitici che danno fondamento alla religione stessa in qualsiasi religione anche se è relativamente nuova ci sono i riti e una sorta di corpo mitico possiamo definirlo come un processo di comunicazione costituito da un insieme codificato di azioni simboliche articolate in uno spazio in un tempo specifico con un supporto corporeo che esprime valori e credenze di un gruppo o di una comunità il rituale quindi è un atto straordinario separato dell'ordinario e dello profano che ti permette creare uno spazio lontano del caos dello quotidiano e rappresenta la componente attiva della pratica religiosa è un modo di agire che si distingue dagli altri modi di agire i riti sono possibili di essere trovate in alcune pratiche digitali come quelle sviluppate sui video gli occhi e comunità di rituale 3D si sviluppano in modo simile a un performance rituale offline con le loro caratteristiche di formalità ripetizione struttura codifica eccetera solo che in questo caso sia la piattaforma ludica o la piattaforma di interazione collettiva il rituale acquisisce una facoltà mediatica consentendo che entrambi l'esperienza e la manifestazione religiosa abbiano luogo con diversi gradi di interattività e narratività nonostante considerando che l'ontologia del rituale è molto complessa per questo tipo di ricerche è necessaria una ulteriore espiorazione nel senso questo è come un primo sguardo a alcune manifestazioni che possiamo riconoscere come rituale ma questo avrà bisogno di una ricerca molto più stensa e molto più profonda i primi posti quindi dove possiamo osservare questi virtuali tecnopagami sono la comunità virtuale come Second Life che non è nuova ma continua a essere molto vigente anche adesso per tanti tipi di religioni e soprattutto per questa religione non tradizionale che qui trovano praticamente tutte le herramiente per costruire i loro spazi e i loro rituali anche per condividere tra di loro per le persone che ancora si definiscono come tecnopagane qui non solo fanno questa riunione per sviluppare rituali ma anche per fare certi tipi di lezioni su magari non lo so condividere alcune cose come portare avanti il rituale online le loro creenze quindi una sorta anche di scuola un altro mezzo invece è i giochi digitali che insieme alle comunità virtuali stanno diventando uno dei media più popolari in cui i cosiddetti tecnopagani o anche altre pagani contemporanee hanno trovato lo scenario più versatile in cui esidirsi ed esprimere le loro performance religioso il motivo potrebbe essere che alcune caratteristiche solitamente presenti nei giochi digitali come le interfacce immersive lo storytelling e la possibilità di personalizzare sia il mondo virtuale come l'avatar del giocatore possiedono interessanti potenzialità religiose di creazione di significato in grado di incoraggiare un personale e spirituale comprensione della tecnologia e del rapporto che gli individui ha con questi dispositivi vado un po' più in fretta ok questo sarebbe anche un punto interessante ma adesso non lo parlo molto che è la relazione con l'avatar poiché in ogni rito devono esistere degli attori l'avatar diventare il mezzo in cui gli utenti abitano il contesto digitale incarnano le proprie pratiche religiose e la relazione dell'avatar con gli utenti in questo caso il praticante tecnopagano è molto importante perché praticamente la sua estensione per abitare e costruire la sua religiosità online faccio una riproduzione di 10 secondi in fretta questo è un altro tipo può essere anche riconosciuto come un altro tipo di espressione tecnopagana questo non è all'interno delle reti virtuali è un artista venezolana che si chiama Maffel Sagirre e lei costruisce questo tipo di macchine che chiama macchine sensitive che fa lei fa meditazione o altra attività religiosa e vede come le macchine reagiscono a questi atti di natura spirituale e quindi è tra l'animismo ma anche una sorta di visione postumanista della macchina e l'esperienza spirituale queste macchine se possiamo vedere cambiano di colore e di intensità qua non si apprecia molto bene perché lei fa delle orazioni magari mette alcuni cantici tibetani eccetera e vede come le macchine reagiscono a questi cambi quindi questo può essere riconosciuto come tecnopagano non è all'interno delle reti virtuali ma segue praticamente tutte le condizioni e già per finire le pratiche tecnopagane almeno quelle cosiddette tecnopagane che possiamo riconoscere come tale sono fortemente intrecciate con la interfaccia di videoiochi o altri software di realtà virtuale praticamente preparano i loro rituali si relazionano con le loro proprie costruzioni simboliche o con altri partecipanti adesso considerando che la principale metodologia di questa ricerca è la semiotica la disciplina che studia i processi di significazione questo approccio permette di considerare il tecnopaganesimo come un processo in cui il senso spirituale non è chiuso e non è definito e può quindi essere inteso come un testo un corpo di linguaggi e discorsi dove si crea un senso religioso in pratiche immersive e interattive e con questo chiudo mi scuso per il tempo che ho avuto in più spero che la presentazione abbia potuto essere del vostro interesse e niente Grazie Victoria è estremamente interessante anche con te ci sono molti spunti che cercheremo di trattare poi nella discussione finale andremo un po' rapidi ma cercheremo di toccare tutti i punti che in qualche modo sono arrivati insomma davvero molto pregnante come 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 argomento e anche come tua presentazione quindi grazie ancora adesso inviterei Roberto Paura per la sua relazione recupero anche la sua biografia nel frattempo Roberto se hai le slide vuoi iniziare a condividerle così guadagniamo qualche secondo Roberto Paura è dottore di ricerca in fisica con una tesi sulla comunicazione della scienza svolta grazie a una borsa dell'Istituto Nazionale di Fisica presso l'Università di Perugia è giornalista scientifico e culturale e direttore di Futuri riviste italiane di Focero Studies e direttore di Quaderni d'Altri Tempi riviste di Studi Culturali è stato consulente della fondazione IDIS città della scienza di Napoli e attualmente è presidente dell'Italian Institute for the Future dal 2019 è coordinatore per la campagna del CICAP il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze tra le sue pubblicazioni ricordiamo la singolarità nuda fedi scientifiche miti tecnologici futuri postmoderni e la fisica del tempo perduto il suo intervento si intitola Effetto Hawking i libri di divulgazione scientifica come strumenti di cocreazione della scienza iperreale Roberto grazie 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 per questa presentazione così dettagliata grazie intanto anche per aver organizzato questo convegno così interessante io cerco di stare nei tempi anzi magari se riesco a recuperare qualcosa tranquillo io come al solito se 15 minuti ti do ho messo anche il lavoro il tema di questa mia presentazione è di dare qualche indicazione sul dibattito che non è in realtà molto approfondito non è molto diciamo discusso in ambito internazionale ma che secondo me è di particolare interesse soprattutto per i temi di questo convegno sui libri di divulgazione scientifica in modo in cui in qualche modo lo vedremo nel corso di questa presentazione intervengono nella cocreazione della scienza e cercherò anche di far capire in conclusione perché la chiamo scienza iperreale ma il riferimento chiaramente è quello all'iperrealtà di Jean Baudrillard partendo da questo presupposto abbiamo avuto diverse ondate di interesse nell'editoria divulgativa scientifica nel corso non so dei decenni ma dei secoli senza ricordiamo di Saint-Passin che la divulgazione scientifica nasce nel 600 con Fontanel con il saggio sulla pluralità dei mondi ma la prima ondata si verifica nell'illuminismo nel 700 l'interesse per la filosofia naturale poi dobbiamo aspettare la fine del XIX secolo quando iniziano a uscire sia nell'Inghilterra che in Francia che in altri paesi europei una serie di testi di scienza popolare noi conosciamo soprattutto Flammarion ma anche Dancing Universe nel mondo anglosassone sono testi che hanno una particolarità cioè da un lato cercano di raccontare quali sono le scoperte scientifiche più moderne dall'altra però presentano anche una visione dell'universo di tipo antimaterialistico e quindi Flammarion che peraltro apparteneva alla società teosofica era anche abbastanza convinto che l'assenza moderna stesse dimostrando la vericità di fenomeni che oggi definiremo paranormale per esempio poi abbiamo un'ondata successiva alla dimostrazione nel 1919 con le osservazioni di Arthur Eddington della relatività generale di Einstein ed è tutto un profugio di testi che appunto raccontano sia della relatività sia della meccanica quantistica queste due grandi rivoluzioni che hanno caratterizzato la prima metà del secolo scorso anche in questo caso peraltro interessante è giusto enfatizzare che sia Arthur Eddington che Sir James Dins che sono due scienziati di primo piano nel mondo anglosassone che pubblicano questi libri di divulgazione di grande successo al loro interno poi presentano delle proposte per esempio sull'interpretazione delle realtà in accordo con le ultime scoperte meccaniche quantistiche che hanno molte familiarità con quei temi che oggi definiremo pseudoscientifici per esempio il ruolo dell'osservatore nella costruzione della realtà e così via che in parte è anche una smentita del luogo comune secondo cui queste siano delle distorsioni della divulgazione in realtà i scienziati stessi spesso già all'inizio della fase moderna della divulgazione scientifica propongono delle visioni della realtà che si sposano con le loro idee che hanno anche diciamo degli elementi un po' metafisici potremmo chiamarli che poi troveranno enorme riscontro nel famoso boom della new age negli anni 70 con il successo mondiale della fisica di ancora oggi leggissimo e tutti i testi che cercheranno di promuovere un'armonizzazione con il misterismo orientale e poi abbiamo ora approfondiamo meglio l'ondata l'ultima ondata la più recente che inizia con la pubblicazione dei brief history of time di Stephen Hawking un vero proprio unicum perché è un'opera che fa 14 milioni di copie vendute in pochi anni quindi numeri che non sono mai poi state raggiunti da nessun altro best seller della divulgazione scientifica e che inizia a creare una sorta di nuovo effetto sulla divulgazione scientifica ora qui per divulgazione scientifica io intendo la letteratura di divulgazione scientifica quella che in anglosassoni chiamano i popular science books ovviamente si può fare divulgazione con tanti metodi diversi però qui appunto ci stiamo concentrando sulla parte letteraria per così dire che non significa narrativa è sempre non fiction ma che è un genere a parte è un genere a parte tanto che addirittura nel 1999 la Royal Society of Literature decide di aprire l'adesione nella società agli scienziati come riconoscimento per la qualità della moderna divulgazione scientifica cioè riconosce questi testi sono anche testi letterari il boom attuale è un dato attuale ha delle peculiarità non è un caso per esempio che molti degli autori più noti degli autori che vengono di più si erano usciti dalla scuderia di un unico editor che è John Brockman un classico self-made man americano che era figlio di Fioraio che a un certo punto pur non avendo formazione scientifica si appassiona negli anni 70 ad alcuni di questi temi convince per esempio John Lilly famoso neuroscienziato che studiava negli anni 70 il linguaggio dei defini a cedere gli diritti per pubblicare un libro e da lì mette su questa enorme industria editoriale da cui escono libri come l'università elegante Brian Greene Armi, acciaia e malattie Jared Diamond che è anche premio Pulitzer su quell'anno nel fiction il premio Nobel Booker Delman Leonard Sassin sono testi che trovate ancora oggi in libreria ora vorrei concentrarmi sul fatto che cosa hanno in comune questi testi questi testi lo vedremo in realtà non si limitano a diciamo divulgare nozioni scientifiche consolidate ma in realtà il loro successo deriva proprio dal fatto che propongono le teorie nuove e cercano appunto di affermarle nel grande pubblico un esempio interessante da questo punto di vista che è stato analizzato da alcuni sociologi più in dettaglio per esempio anche dall'italiano Massimiliano Booker riguarda il grande dibattito sull'estinzione dei dinosauri paradossalmente all'inizio degli anni 90 si scoprì da un sondaggio che almeno più di un terzo dei parlamentori americani non era a conoscenza dell'ipotesi dell'impatto asteroideo come causa dell'estinzione del triassico Cretaceo che avrebbe portato all'estinzione dei dinosauri è della scoperta del cratere dello Yucatan che si ritiene essere collegato sull'impatto prima di aver letto il bestseller di Walter Alvarez T-Rex and the Crater of Doom in cui questa ipotesi viene popolarizzata e diventa di pubblico dominio diventerà anche un tema del film Jurassic Park nel 93 che farà tornare in auge l'attenzione mediatica sui dinosauri Alvarez e il figlio in realtà erano dei fisici erano dei fisici per cui non facevano parte della loro comunità scientifica della comunità scientifica di riferimento della paleontologia questo spiega perché i paleontologi non ne fossero a conoscenza o almeno parte di loro e perché appunto Alvarez avesse deciso di puntare sulla pubblicazione di un libro di divulgazione per diffondere le sue tesi perché fino ad allora non avevano trovato grande riscontro nella comunità scientifica e per riuscire a contrastare il successo dell'ipotesi Alvarez uno dei maggiori critici di queste ipotesi il paleontologo Charles Hopper a sua volta ha deciso di pubblicare un testo divulgativo di Great Dinosaur Extinction Controversy però perché ha capito che la discussione ormai è uscita dai confini dai steccati disciplinari ed è entrata nel dibattito pubblico tanto che si pubblicano appunto articoli su giornali su riviste di partiti televisivi sull'argomento c'è anche una contrapposizione tra le due grandi riviste scientifiche Nature Science che si dividono con alcuni editoriali sulla validità dell'una e dell'altra ipotesi addirittura anche sul New York Times vengono pubblicati articoli a un certo punto questa controversia diventa anche molto ruvida perché si scambiano anche una serie di diciamo critiche personali che Alvarez veniva accusato di aver partecipato al progetto Manhattan che gli era stato tolto poi il nulla ossa di sicurezza perché è considerato vicino agli ambienti comunisti e così via Alvarez dal canto suo critica officer per alcune sue smentite alle sue tesi che in realtà secondo lui avrebbe avuto fischi per fiaschi però insomma il grande dibattito a un certo punto si sposta sui media e da qua il grande successo di queste ipotesi che ancora oggi nella comunità scientifica non è ipotesi ritenuta ovviamente definitiva l'abbiamo visto dagli interventi anche precedenti che cosa per la scienza non esistono ipotesi definitiva ma sicuramente è l'ipotesi comunque popolarmente più nota simili situazioni si sono verificate inizio degli anni 2000 con la cosiddetta string theory wars la guerra delle stringhe la teoria delle stringhe che oggi tutti anche diciamo per sentito dire conosciamo anche per esempio grazie al big bang theory in realtà fino alla fine degli anni 90 non aveva molta visibilità mediatica c'erano stati dei tentativi di popolarizzarla mezzo cacu per esempio ci aveva trovato ma è una teoria molto complicata che appunto cerca di tenere insieme relatività generale e meccanica quantistica per una sorta di nuova teoria del tutto nel 99 dalla scuderia di john brockman esce l'universo elegante di brian green che viene poi candidato al pulitzer e nel 2002 diventa anche un show televisivo americano condotto dallo stesso green in cui appunto la teoria del singe viene spiegata in maniera molto semplice ma anche con degli strumenti retorici molto efficaci nel senso che green la propone come una teoria ormai accreditata una teoria naturale che naturalmente emerge appunto dalla fusione di relatività generale e meccanica quantistica una teoria inevitabile questi sono tutti gli attivi che troviamo nel libro nel senso che a un certo punto dirà il premio Nobel Steven Weinberg la teoria del singe è l'unica reale alternativa per avere una teoria di gravità quantistica una sorta di teoria del tutto e green non cita assolutamente nel suo libro le teorie concorrenti la teoria del twistor la teoria della look quantum gravity la gravità non commutativa che sono proposte alternative che non vengono assolutamente prese in considerazione secondo green la teoria ormai è stata confermata e bisogna solo aspettare il vaglia sperimentale che lui dice cadrà nell'arco di pochissimi anni si tratta di aspettare che gli acceleratori di particelle scoprano alcune particelle previste nella teoria le particelle supersimmetriche e sarà coronata dal successo per contrastare l'enorme successo di questa retorica due altri fisici Liz Monin e Peter Voigt a loro volta decine di pubblicare dei testi divulgativi The Trouble with Physics e Not Even Wrong che sono pubblicati anche in italiano come appunto neanche sbagliata nel caso di Voigt mentre nel caso di Brody Smallin è l'universo senza stringhe il titolo italiano che sono delle chiari atti di accusa contro la teoria delle stringhe e di nuovo il dibattito si sposta a livello mediatico sui giornali in cui per esempio su New York Times Brian Greene si trova costretto a difendere la validità della sua teoria Peter Voigt commenterà in maniera abbastanza contro queste prese di posizione un importante dibattito dell'Asimov Memorial Debate che si tiene ogni anno il planetario di New York nel 2007 vede a contrapporso Brian Greene con l'anti-stringista Lawrence Krosk a sua volta diventato famoso con un libro di divulgazione che è la fichia di Star Trek c'è anche appunto è interessante osservare l'impatto che queste controversie pubbliche hanno poi sulla costruzione della conoscenza scientifica questo grafico io voglio che prendo dal libro Fate, Fashion and Fantasy New Physics di Roger Penrose che è stato pubblicato in italiano in maniera abbastanza diciamo improbabile mi pare come teoremi minotauri qualcosa del genere lui riprende qui un'analisi fatta da Carlo Rovelli su un numero di paper pubblicati tra il 2000 e il 2012 su tre approcci di gravità quantistica appunto le stringhe i loop e i twist ed è interessante osservare che appunto nel momento in cui la guerra delle stringhe tra il 2006 e il 2008 raggiunge l'apice la teoria delle stringhe inizia a declinare oggi peraltro è effettivamente vero che anche a livello mediatico la teoria delle stringhe gode di minore successo paradossalmente rispetto a prima mentre la teoria della loop quantum gravity ha ricevuto negli ultimi anni una significativa una maggiore significativa attenzione mediatica non solo mediatica ma anche appunto una maggiore attenzione da parte della comunità scientifica c'è quindi la possibilità che in qualche modo il dibattito pubblico abbia un impatto diretto anche nella costruzione della conoscenza scientifica secondo me sì qui vediamo appunto la possibilità che si sia una sorta di effetto Rovelli non soltanto nella più recente ondata di interesse per la divulgazione scientifica ma anche proprio nei processi di costruzione della conoscenza scientifica in particolare sui dibattiti sulla gravità quantistica anche Rovelli con i suoi libri che vengono a milioni di copie presenta la sua teoria la loop quantum gravity sviluppata con gli Smalling e altri come la teoria di gravità quantistica definitiva in due pagine liquida la teoria delle stringhe perché dice non è stata confermata sperimentalmente la sua principale conferma sperimentale che anche Green si auspicava non testata e presenta la loop quantum gravity con i stessi aggettivi con cui Green nel suo libro difendeva la teoria delle stringhe è una teoria elegante è una teoria semplice è una teoria naturale oppure più recentemente nei suoi ultimi libri per esempio Rovelli difende o meglio presenta la sua interpretazione dei fondamenti della meccanica quantistica su cui c'è un dibattito enorme fin dagli anni 30 su quale appunto si ha la migliore interpretazione filosofica l'interpretazione di Copenhagen l'interpretazione di molti mondi eccetera lui presenta la sua il relazionismo anche in questo caso sviluppata insieme a Smalling come dannola un po' per scontato cioè non presentando in realtà se non in poche righe liquidando le altre ma danno per scontato che questa sia l'interpretazione fondamentale della realtà ecco quindi di nuovo i testi di divulgazione usati come strumenti di costruzione della conoscenza scientifica e di orientamento al dibattito pubblico vado a chiudere appunto con questi ultimi due slide cioè da un lato appunto queste sono cose su cui alcuni studiosi pochi per la verità da diversi anni hanno cominciato a concentrarsi vedete appunto che gli studi di Smith di Braddon Smith Paul Gartner Felicity Mellor poi li trovate nei riferimenti bibliografici alla fine della presentazione hanno enfatizzato appunto i testi di divulgazione scientifica come siti di costruzione della scienza dall'altro a me mi interessa molto appunto lo studio di Edgela Fram che in realtà viene dai studi sulla religiosità e che poi ha provato ad applicare anche allo studio della popular science proprio appunto della divulgazione scientifica che dimostrano come inesorabilmente nel processo di traduzione del contenuto scientifico si verifica quella che li chiama appunto nell'ambito della fisica la costruzione di una folk physics di una fisica popolare che non necessariamente poi riflette ciò che si sviluppa all'interno della comunità scientifica cioè la fisica di cui noi apprendiamo dei libri divulgativi non necessariamente corrisponde ai principali filoni di ricerca della fisica nella comunità scientifica dove magari ci sono dei temi che hanno meno interesse mediatico meno attenzione mediatica ma che hanno più importanza dal punto di vista della ricerca e per questo che mi è sembrato interessante per concludere recuperare la proposta la profezia in realtà di John Baudrillard quando parlava appunto dell'iperrealtà come la condizione della società postmoderna in cui la rappresentazione della realtà prodotta attraverso la comunicazione di massa ha rinfiazzato la realtà stessa cioè se noi oggi consideriamo i testi di urgezione scientifica come simulanti della vera scienza allora possiamo dire con Baudrillard che questi producono una simulazione Baudrillard così la chiamava che non è una rappresentazione cioè non è la rappresentazione della scienza reale perché mentre la rappresentazione si basa diciamo Baudrillard sull'equivalenza del segno e del reale la simulazione incorpora in sé l'edificio del reale del simulacro e non nuove per realtà quella che sta emergendo secondo me appunto è una scienza iperreale che è una nuova forma di scienza potremmo dire che emerge dalla trasformazione indotta dai testi di divulgazione e simulacri che però ha un impatto non soltanto nella nostra percezione pubblica della scienza ma anche nel modo in cui gli scienziati stessi a un certo punto pensano alla scienza stessa l'abbiamo visto nelle presentazioni precedenti cioè a loro volta sono influenzati da questa scienza eperreale e producono effetti complessivamente diversi da quella che era la conoscenza scientifica prima della nascita della comunicazione di massa Francesco Guglieri in un bellissimo libro che è pubblicato l'anno scorso Leggere la terra e il cielo parla non a caso di nuovo sublime per parlare del canone dei libri di scienza lui così lo chiama cioè questi testi per esempio appunto The Brief History of Time Stephen Hawking con il loro interesse per esempio sul tema dei buchi neri no i buchi neri diventano nell'immaginario di massa ciò che una volta erano le grandi mitologie dell'antichità diventano i nuovi elementi della mitologia contemporanea dove ci porterà tutto questo è ancora presto perfillo ma era appunto volevo appunto proporre questa presentazione per offrire questo punto di discussione qui trovate i riferimenti con questo concludo grazie grazie Roberto perfetto nei tempi ma molto densa anche la tua presentazione molti spunti che si collegano sia con quello che abbiamo sentito prima ma anche con quello che abbiamo incontrato ieri quindi cercheremo di fare poi un po' di discussione perché stanno venendo fuori degli aspetti molto importanti passo subito al Federico Biggio in modo da guadagnare il più tempo possibile per chiacchierare tutti insieme dopo Federico Biggio è dottorando in semiotica e media dell'Università di Torino le sue aree di ricerca sono semiotica delle culture e dei media digitali in particolare riferita alle tecnologie immersive e pervasive della realtà virtuale aumentata si interessa inoltre di digital humanities e di filosofia della datafication nel 2020 ha curato insieme a Victoria Dos Santos che abbiamo sentito prima e a Giuliana il volume edito da Aracne Meaning Making Extending Reality dopo gli studi al Dams si laurea in comunicazione e cultura dei media discutendo una tesi su realtà aumentata e wearable technologies fra le sue pubblicazioni ricordiamo il guidebook for mirror words Poetics of Transparency in Augmented Reality Augmented Consciousness Artificial Gases Fifty Years After Gene Youngblood's Expanded Cinema e Towered Assemiotics of Augmented Reality il suo intervento di oggi ha il titolo ideologia dei linguaggi computazionali nella cultura digitale anche per te Federico buon lavoro ai 15 minuti come al solito se interrompi pure i 15 minuti e vi ringrazio per questo bel convegno e sono contento che l'intervento che mi ha preceduto ha concluso con Baudrillard perché mi dà un input da quale partire Baudrillard diceva anche che siamo fatti la stessa stoppiando Shakespeare siamo fatti la stessa sostanza di cui sono fatti i segni allora io quello che vi vorrei proporre questa mattina è un work in progress della mia tesi dottorato per cui mi perdonerete una parte molto teorica all'inizio per poi passare non a rispondere alla grande domanda della mia tesi dottorato ovvero come approcciare il senso dell'interazione uomo-macchina senza usare approcci quantitativi ma provare a studiare questo questo fatto questo fatto attraverso il linguaggio della semiotica come una ideologia computazionale come una ideologia del linguaggio quindi partirò in bastendo in bastendo discorso sulle ideologie del linguaggio come le precipisce come le pensa la semiotica e in che termini si può parlare di linguaggi computazionali ideologici dobbiamo partire dal presupposto che i linguaggi computazionali sono si parla i linguaggi di codice informatico usando un po' una una metafora ma questo mio intervento si diciamo si concentra sulla parte tecnologie del sottotitolo di questo convegno in particolare la la domanda di partenza è che la quantitative analysis faccia un uso dei linguaggi computazionali e che queste operazioni siano in qualche modo ideologiche perché portano al riozionismo portano a una costruzione di realtà attraverso attraverso i dati che non necessariamente corrisponde alla realtà stessa ma non è questo il punto è alla base della nascita di ideologie del linguaggio computazionale di modi di usare il linguaggio computazionale per fare cose diverse il mio ragionamento parte da una riformulazione della teoria estetica e tecnestetica che parla della relazione fra linguaggio e operazione per far questo riprenderò il tema dell'enciclopedia di eco ritornando ma molto brevemente sulle critiche teoriche che sono state fatte a questo concetto e cercando di rivalutarlo rivalutare il concetto di enciclopedia come insieme di tutti gli enunciati e vedere se questa operativizzazione del concetto di enciclopedia può essere utile per studiare in modo più semiotico più semantico il senso dell'interazione uomo-macchina non in una prospettiva quantitativa allora fondamentalmente che sono le ideologie del linguaggio sono testi le ideologie del linguaggio si basa sul presupposto che i linguaggi verbali e gli altri sistemi semiotici siano nella complessità ideologici a un livello teorico Silverstein dice che sono credenze che una società un gruppo di parlanti ha a proposito del linguaggio ma Leone poi in un articolo riprendendo Keen dice che non sono solo le credenze esplicite che riguardano una competenza Silverstein dice che i parlanti riconoscono negli enunciati la funzione metapragmatica che gli ha supporta gli fornisce una competenza per interagire significativamente in questo contesto ma sono anche tutte le assunzioni implicite che riguardano una un livello metaculturale e in questo secondo caso se consideriamo anche le assunzioni implicite scrive Leone ogni enunciato prodotto dai parlanti di una comunità può essere usato come segno della sua ideologia linguistica in questo senso in questa prospettiva il primo senso del primo significato dell'interazione uomo-macchia risiede nell'artefatto tecnico in sé nel dispositivo nel programma che noi utilizziamo io nello specifico mi sto occupando di programmi come software di realtà aumentata software di quantitativa analisis e ad esempio utilizzato in ambito socio-semiotico e software di e ranking algoritmi di ranking che come vediamo come vedremo adesso possiedono un tratto comune quindi il primo senso potrebbe stare già nel fatto che questi enunciati sono enunciati tecnici in accordo con la teoria di latura e di conseguenza sono ideologici in qualche misura questo proposito vorrei chiamare brevemente la teoria dell'enciclopedia di Umberto Eco su a quale dice non si preoccupa di registrare solo ciò che è vero cioè l'insieme dei significanti ma anche tutto ciò che socialmente è stato detto infatti viene definita anche come non solo l'insieme di tutte le conoscenze e di tutte le competenze ma come l'insieme di tutti gli enunciati e di conseguenza se l'enciclopedia è l'insieme di tutti gli enunciati e tutti gli enunciati sono ideologici in quanto possiedono un significato connotativo allora l'enciclopedia è l'insieme di tutti i significati ideologici questo però non era l'idea di Eco che scusate che in la struttura assente tiene diviso significato e ideologia sono già 15 minuti no no ne hai sono sette sono ok no perché ho stico un rumore niente quindi posta in questi termini ci hanno detto gli studiosi di semiotica negli anni successivi ad esempio Traini che è l'eciclopedia non può che essere un postulato semiotico non è attingibile nella sua totalità Lavioli ha detto che vista in questa prospettiva l'enciclopedia precede l'interpretazione azzera le divisioni fra semantica sintassi e pragmatica e anche Ugo Vogli ad esempio ha obiettato l'inadeguatezza di questo concetto per descrivere il funzionamento della percezione dell'esperienza la nozione di enciclopedia proposta da Eco non rende chiara della differenza fra un'enciclopedia sociale di tempo di una società o di un certo strato sociale e quella individuale che si ritrova in ogni individuo certamente queste diverse versioni dell'enciclopedia non sono gerarchizzabili o pensabili nelle categorie della parte del tutto la loro struttura e il loro funzionamento non sono definibili in linea di principio nessuno ha mai descritto il formato di alcun esempio di enciclopedia quindi si tratta di un'immagine affascinante quanto si vuole e non di un concetto operativo in più se vogliamo aggiungere se l'enciclopedia la intendiamo come insieme di tutti gli enunciati che possiedono delle connotazioni ideologiche ma che sono frutto di assunzioni implicite queste se sono enciclopediche devono essere in qualche misura esplicite tuttavia se il modello dell'enciclopedia non va bene per la semiotica cognitiva forse può essere utile per definire la situazione empirica astratta di human computer interaction in cui è possibile situare a tanti enunciativi che usano linguaggi operativi e nello specifico linguaggi computazionali estraggono convocano elementi dell'enciclopedia quindi altri enunciati e producono essi stessi dei dati in questo caso l'ideologia sarebbe l'ideologia dei linguaggi computazionali sarebbe l'insieme degli enunciati che comprendono sia i significati denotativi che i significati connotativi il riduzionismo probabilmente potrebbe risiedere proprio qui considerando un enunciato all'interno dell'enciclopedia come un indice ad esempio pensiamo alla quantità di analysis la più la più semplice come la sentiment analysis un segno una un'interazione di una serie di utenti con dei software che sono delle operazioni sono operazioni meta operative come direbbe l'estetica fra una serie di scelte ma l'analisi quantitativa considera solo il significato connotativo di quell'operazione cioè l'enunciato che si è completamente realizzato e di questo enunciato si considera il significato connotativo ideologico è un po' quello che succede anche nello user centered design in cui l'obiettivo l'obiettivo della progettazione dell'interazione uomo macchina è quella del vecchio paradigma di interazione che prevedeva che i designer dovessero trasmettere la loro visione di design creare delle affordance negli oggetti tecnici utili e orientati al soggetto ma che comunque questo soggetto era previsto dal testo come un semplice attuatore dei delle delle funzioni è un po' la differenza fra uso e interpretazioni di cui di cui parlava già Eco invece nella storia della tecnologia comunque ci sono stati esempi di di rifunzionalizzazione degli strumenti tecnologici un caso interessante è quello della Swiss Vagans proposta da Steve Mann che dopo aver inventato i primi le prime wearable technologies ed essersi accorti in modo un po' più eristico che queste tecnologie indossabili avevano una grande potenzialità ma anche una grande aprivano anche a grandi rischi dal momento che sono tecnologie integrate con il corpo e a proposito questo paradigma che si si contrappone a quello invece più recente ad esempio del capitalismo e della sorveglianza attraverso la Swiss Vagans Swiss Vagans che non è francese e sono la comunità di utenti stessi che utilizzano linguaggi computazionali per per studiare i sorvegliani diciamo e quindi la da che da cosa nasce questo questo studio dal bisogno di trovare un posto teorico per i dati le digital breads crumbles che definisce Alex Pentland tutti quegli insieme i dati insignificanti che però vengono lasciati nei database e che possono essere significanti in diverso modo l'ideologia dei linguaggi computazionali quindi potrebbe essere considerata come l'insieme di assunzioni l'insieme di credenze e assunzioni sui modi che i parlanti sulle modalità che i parlanti realizzano usando questi linguaggi computazionali questi linguaggi computazionali per accedere all'enciclopedia della rete estrarre una serie dei dati e utilizzarli finalisticamente ai ai propri scopi quindi in prima in prima istanza per per restituire la capacità di scelta la la possibilità di scelta all'utente non considerare l'interazione uomo-macchina solo dal punto di vista riduzionista della quantità di un'analisi dobbiamo considerare prima di tutto che la grande produzione di dati può essere positiva per l'utente in alcuni modi aiuta a aiuta responsabile di produrre una immagine interattiva un'immagine che produce che informa l'utente su dati che appartengono ad egli o è la stessa può essere una ideologia positiva che considera il guadagno di il guadagno interpretativo di oggettività che una data visualization image porta in questo senso software come google trend o simili software che permettono di fare quantitative analysis aiutano almeno l'analista a a capire quali sono le operazioni le diversissime operazioni che gli utenti mettono che gli utenti realizzano con i propri dispositivi e capire strategicamente come agire in quel contesto comunicativo sembra Federico sei sui 16 ok ok è un po' il discorso di Cambridge analitica ma un sacco di agenzie di comunicazione fanno questo lavoro quotidianamente dall'altra parte in questo senso possiamo considerare tutti molti studi che si sono fatti dagli inizi del web ad oggi che mettono il focus sulle possibilità espressive sulle opportunità di augmentation dell'individuo attraverso l'enciclopedia attraverso la possibilità di accedere all'enciclopedia come insieme di tutti gli enunciati Engelbart Nelson Tim Berners-Lee ma anche lo stesso Eco proponendo Encyclopedia aveva l'idea di realizzare concretamente l'enciclopedia come insieme di tutti i saperi ma naturalmente in quel caso l'ideologia dei linguaggi computazionali prevedeva una parità fra il paradigma peer-to-peer fra coloro che forniscono la conoscenza ovvero tutti e coloro che ne approfittano ma anche i progetti di cultural analytics come quelli di Manovic rendono questa idea di accedere ad un archivio materiale perché effettivamente le immagini dei post di Instagram che le data visualization image organizzano sono enunciati e dall'altra parte tutte le conseguenze negative che questi linguaggi operativi possono portare all'utente conseguenze operative da un punto di vista ideologico connesse a un uso sbagliato tra virgolette di questi dati e questi sono un po' di spunti bibliografici che si possono rimandare a un uso sbagliato dei dati che non necessariamente pensano una presenza malefica una presenza malefica che utilizza i dati il caso di Snowden ad esempio dato che l'intervento di Gabriele successivo è sugli scienziati pazzi anche l'hacker di oggi è un po' uno scienziato pazzo ma visto in modo positivo che in questo momento che in questo caso permette di uscire dall'alienazione che è un altro concetto che non ho potuto trattare questo è un po' il mio pensiero chiedo scusa se ci sono state un po' delle incomprensioni che di sicuro potremmo chiarire nella discussione successiva e niente mi ringrazio per l'attenzione grazie Federico è un intervento molto complesso peraltro nella tua bibliografia visuale finale ci sono molti titoli che in qualche modo ho masticato ma insomma che conosciamo quindi torneremo in qualche modo sicuramente anche sul tuo intervento anche perché hai fatto in modo che noi possiamo toccare con mano quanto la tecnologia sia materialmente attiva nella nostra quotidianità è come questo dialogo che noi immaginiamo sempre molto molto virtuale molto effimero in realtà abbia a che fare con cose che hanno un peso nel senso letterale del termine cioè sono proprio degli oggetti che dobbiamo in qualche modo tenere in considerazione passerei a Gabriele Marino che presento immediatamente a cui chiedo nel frattempo di caricare la sua presentazione Gabriele Marino è un semiologo e lavora all'Università di Torino all'interno del progetto di ricerca FACE si è occupato principalmente di musica meme martiri e maschere martiri o martiri martiri e martiri martiri ok ha pubblicato un libro sulle recensioni di dischi che non esistono Britney Cantamanson e altri capolavori e uno sulla semiotica dei generi musicali frammenti di un disco incantato il suo intervento ha il titolo muahaha la risata malvagia dello scienziato pazzo tipologia di acronia e semiotica di un troppo inossidabile anche tu sui 15 minuti io ti fermo o meglio ti do un segnale va bene cerco di essere cerco di essere veramente velocissimo mi sentite e vedete le slide giusto? si è tutto a posto perfetto grazie allora si io sono contento perché in qualche modo sono mi sono finalmente costretto a lavorare su una cosa a cui avrei voluto sempre lavorare quindi questa è secondo me l'occasione perfetta in qualche modo credo che questo intervento mio si inserisca spero si inserisca bene nella nella sessione nel programma perché insomma ritorno su alcuni dei punti che già sono stati sono stati trattati con una prospettiva un po' diversa allora il punto di partenza è questo tutti amiamo la figura dello scienziato pazzo per come insomma ce l'ha tramandata soprattutto il cinema Frank Zappa che è uno dei miei riferimenti teorici principali scopre quello che è il musicista che in qualche modo gli illuminerà la via di Damasco dei suoni semplicemente perché la copertina di questo disco che lui scopre per caso sembra effettivamente la copertina di un disco fatto da uno scienziato pazzo e lui dice non c'è cosa migliore è tutta la vita che sognavo che qualcuno facesse finalmente pubblicare un disco a uno scienziato pazzo a uno che lavora con i suoni come gli scienziati pazzi lavorano con le loro sostanze con le ampolle e tutto quell'armamentario di parafernalia che siamo iconograficamente abituati a immaginare assieme allo scienziato pazzo questo scienziato pazzo era Edgar Vares ed effettivamente da un punto di vista dell'iconografia immagini come quella della copertina del disco che Zappa scopre oppure questa foto diciamo promozionale rendono bene l'idea di questo come dire di questa figura nella sua stereotipicità se noi ci rifacciamo i semiologi partono spesso dai dizionari poi dopo dopo eco da un certo punto in poi partono anche dalle enciclopedie se noi partiamo dallo stereotipo per antonomasia così come lo possiamo ritrovare per esempio su wikipedia vediamo che c'è proprio un'immagine stereotipica cristallizzata nel nostro immaginario con tutta una serie di riferimenti molto precisi noto così che la traduzione che la wikipedia italiana propone di questo breve di questa brevissima diciamo didascalia a questa immagine insomma aggiunge traduce ma aggiunge anche un dato interessante che ci proietta immediatamente al cuore dello specifico dello scienziato pazzo cioè l'idea della vendetta l'idea della marginalizzazione e della in qualche modo appunto della rivalsa nei confronti di una comunità scientifica ma anche socioculturale in senso più ampio che ha marginalizzato un certo tipo di approccio e di figure questa è una figura che come diciamo nell'abstract in realtà la semiotica già prima di essere semiotica inizia a studiare apocalittici integrati di eco si conclude con un saggio che parla di mostri in particolare in realtà parla dello scienziato pazzo e questa è una ripresa di Paolo Fabri per il cinquantennale di apocalittici integrati che anche qui riassume tutta una serie di caratteristiche iper stereotipiche dello scienziato pazzo definito ipercalittico non apocalittico cioè inteso come il rovesciamento della realtà non come fine della realtà e questo appunto ci introduce all'idea che come spesso fa la semiotica lavorare sullo stereotipo è molto interessante in questo caso lo stereotipo è profondamente etnocentricamente connotato cioè diciamo riprendo queste considerazioni da un articolo da un dittico molto bello pubblicato su The Paris Review di recente nel 2018 in cui si nota intanto il connotato mitico per definizione dello scienziato pazzo che mette assieme quindi due caratteristiche opposte è l'incarnazione della ragione in quanto scienziato appunto è pazzo ed è per definizione una figura marginale marginalizzata che lotta contro l'establishment ma nota questo scrittore premio Pulitzer effettivamente fa parte lui stesso dell'establishment perché quasi sempre si tratta di maschi bianchi benestanti quasi tutti europei ci sono pochissime donne sappiamo benissimo che lo scienziato pazzo classico della cinematografia horror degli anni 50 all'accento tedesco e il cognome tedesco ovviamente non a caso quindi che ce ne facciamo di questi cliché cerchiamo di capire se ci possono dire qualcosa diciamo a più livelli del cinema dell'immaginario diciamo fantastico in generale ma direi appunto della concezione della scienza che probabilmente questo scienziato pazzo in qualche modo incarna quindi cerchiamo di partire dallo stereotipo per ricostruire un'immagine ovviamente modellizzata della rappresentazione della scienza quindi che cosa possiamo fare questi sono i due principali riferimenti che ho utilizzato io senza i quali non avrei potuto fare questa piccola diciamo esplorazione di questo tema così interessante possiamo ovviamente capire quali sono le origini di questo topos capire che tipo di tipologia di classificazione possiamo costruire ma soprattutto questo è il punto dove voglio andare a parare capire se dietro queste figure c'è uno stesso tema c'è una stessa articolazione semantica e quindi assiologica valoriale e addirittura qual è l'epistemologia dietro queste rappresentazioni allora il primo dato è che lo scienziato pazzo è una figura della fiction ma ovviamente trae ispirazione dalla realtà cioè noi sappiamo che c'è una lunga teoria di figure del mondo appunto scientifico che hanno ispirato l'idea la figura dello scienziato pazzo io qua vi propongo dei testi che però non leggo altrimenti non ce la faccio coi tempi però insomma da Faust in avanti sappiamo che tutta una serie di figure storiche hanno ispirato la figura dello scienziato pazzo tanto che in tantissime pubblicazioni le due cose sono completamente amalgamate si parla di Albert Einstein e di Nikola Tesla così come si parla del dottor no o di altri dottori del mondo della fiction appunto i dottori sono il mondo in cui la figura dello scienziato pazzo sostanzialmente ha il suo esordio da un punto di vista proprio della genesi della filogenia di questo personaggio di questa figura c'è proprio una sottolineatura sociologica di classe importante di questo titolo cioè in qualche modo il suggerimento è che questa forma di male incarnata nello scienziato pazzo abbia delle connotazioni di distinzione sociale di classe che in qualche modo sia un potere che ci troneggia dall'alto e a cui siamo soggetti abbiamo ovviamente tutti questi dottori stracelebri della della primissima diciamo del primissimo horror del primo racconto fantastico in senso moderno quindi Jackie Lehigh di il dottor Moreau diciamo che posso rilevare come è interessante vedere come i dottori siano afferenti alle scienze dure in senso stretto ma a un certo punto timidamente spuntano anche quelle che non consideriamo più scienze dure da un certo punto in poi come per esempio Mabuse che effettivamente è uno psicanalista uno psicologo ma da un punto di vista figurativo ha ancora i connotati quasi del mostro delle fiabbe sembra un orco diciamo che da un punto di vista appunto figurativo dell'immagine il cliché dello scienziato pazzo viene un po' cristallizzato fissato da Rothwang di Metropolis di Fritz Lang e poi dal dottor Meyer Schulz torna di nuovo il nome diciamo continentale in Maniac del 1934 quindi questa è la prima come dire la prima infornata di scienziati pazzi che ci vengono offerti a cavallo tra letteratura e cinema ovviamente con la forza con l'impatto incredibile delle immagini per cui sostanzialmente nell'immaginario è questa la figura dello scienziato pazzo questa per come ci viene mostrata da questi primi film c'è un caso molto interessante su cui vado veramente velocissimo anche perché è abbastanza complesso uno dei primissimi racconti di fantascienza antelitteram in realtà sembra un po' contraddire tutte le cose che abbiamo visto prima perché è scritto da una donna ha per protagonista una donna che però appunto per quello che ci interessa qui è interessante perché appunto alle origini del racconto di fantascienza c'è comunque l'idea di una scienza perversa anche se è una scienza in qualche modo autoappresa cioè lei di fatto diventa una sorta di scienziata di questo mondo fantastico di cui diventa l'imperatrice il romanzo si chiama The Blazing World ma appunto non mi posso dilungare molto è comunque un testo molto molto interessante di Metà 600 che unisce appunto picaresco riflessione filosofica come del resto la fantascienza farà sempre a tutti quei topoi che conosciamo molto bene quindi le creature fantastiche mezzo uomo mezzo animale oppure le invenzioni tecnologiche come dei sottomarini antelitteram andiamo a una prima proposta di tipologizzazione che io riprendo dalla specialista con la S maiuscola che è Rosalind Haynes che è una studiosa di letteratura inglese che è proprio specializzata sulla figura dello scienziato pazzo un po' come in Italia abbiamo Alberto Brodesco che si è tanto occupato di questo tema allora abbiamo tante diverse tipologie lo scienziato è pazzo ma non necessariamente cattivo questo è il primo rilievo che possiamo fare c'è l'alchimista malvagio quindi sostanzialmente il negromante il mago nel suo rivestimento tecnico tecnologico ma abbiamo appunto anche il nobile scienziato che si spende che insegue diciamo un'idea di scienza come sapere che utopisticamente può fare migliorare le sorti all'umanità e si spende da questo punto di vista c'è lo scienziato sciocco che è quello pasticcione che per esempio troviamo nella parodia di Jekyll e Hyde degli anni 50 c'è ovviamente lo scienziato romantico inteso in senso propriamente cioè cronologico non romantico come qualifica ma appunto lo scienziato del periodo romantico che è quello spietato cioè che sacrifica tutto in nome dei valori della scienza rinunciando perfino alla famiglia agli affetti c'è lo scienziato diciamo Indiana Jones eroe avventuriero che attraversa i mondi e poi c'è lo scienziato pazzo vero e proprio e qua troviamo un altro connotato fondamentale da un punto di vista semantico cioè lo scienziato è pazzo non solo perché è ossessionato dal sapere scientifico ma perché in qualche modo vuole utilizzare strumentalmente questo sapere per impadronirsi del mondo e poi c'è lo scienziato impotente che è quello a cui sfuggono le cose di mano ovviamente come ci insegna la semiotica queste sono posizioni attanziali cioè sono funzioni che possono essere poi incarnate da un medesimo personaggio da una medesima figura quindi ci immaginiamo che uno scienziato non lo so il nobile scienziato possa anche essere impotente in qualche modo creare dei danni perché le cose gli sfuggono di mano in questa teoria di riferimenti fondamentali avrete notato l'assenza ideologica del più importante di tutti cioè Frankenstein romanzo di Mary Shelley del 1818 prima riduzione cinematografica nel 1910 ma quella fondamentale di James Wade del 31 che cristallizza davvero tutto un immaginario in maniera epocale appunto Frankenstein ci dà tutta una serie di anche qui sotto topos che poi sono rimasti attraverso le sue riduzioni cinematografiche quindi l'idea di ossessione per la scienza l'idea che ci sia la creatura che si rivolta contro il creatore la figura dell'assistente che è fondamentale poi diventa spesso spalla comica l'idea che ci sia un innocente che viene sottoposto a che viene messo a pericolo al rischio tipicamente è una figura femminile oppure è la società to cure c'è ovviamente il setting del laboratorio c'è tutto il potere costituito che si oppone a quello che è fondamentalmente un ribelle come abbiamo già detto quindi questi sono i sottotopoi fondamentali che i Frankenstein cinematografici della Universal fissano ma tutto questa è un'altra cosa molto interessante si basa su un grande equivoco cioè lo scienziato immaginato da Mary Shelley è tutto fuorché pazzo è ossessionato dal proprio obiettivo scientifico ma non è pazzo in senso stretto ecco può essere misguided e soprattutto non si rende conto di dove lo porteranno le sue azioni di quali saranno le conseguenze questo è un tema fondamentale tra l'altro Viktor Frankenstein è uno scienziato di successo cioè il suo esperimento riesce perfettamente non riescono perfettamente come dire non non sono prevedibili le conseguenze di queste sue azioni da un punto di vista sostanzialmente non scientifico ma da un punto di vista culturale etico appunto grande equivoco diciamo qua vado molto veloce su alcuni passaggi anche qui Frankenstein poi trova una serie di declinazioni molto articolate in ambito cinematografico quindi può essere uno scienziato animato da profonda umanità può essere lo scienziato stregone quindi appunto il negromante il medico impazzito diciamo che la versione che fissa il cliché di Frankenstein scienziato pazzo che poi viene ripreso anche nelle parodie tipo quella di Mel Brooks con Wilder è appunto il Frankenstein di Wade del 31 per una serie di motivi che sono questi cioè è qualcuno che insegue un'ideologia assolutizzata di scienza ma soprattutto agisce fuori dai limiti di liceità e poi c'è tutta una componente probabilmente psicanalitica molto interessante cioè sostanzialmente Frankenstein vuole creare per possedere questa è una cosa che il mostro come nota Rosie Braidotti in un passaggio che lascio veramente come incidentale sottolinea molto bene cioè sostanzialmente lo scienziato pazzo è il bambino sadico che brucia le formiche cresciuto in maniera ipertrofica cioè che vuole smontare la vita in particolare il corpo il bios per appropriarsene quindi torniamo su un punto fondamentale nell'ottica dell'esplorazione dell'epistemologia che c'è dietro questa figura sostanzialmente lo scienziato pazzo ha valore apotropaico questo lo nota già subito eco nel 64 però in qualche modo la funzione di appunto di esorcismo del terrore per un sapere per una scienza che si rivoltano contro l'uomo perché diventano sadici viene contraddetta dalla storia dopo Oppenheimer e dopo la bomba atomica è difficile pensare che quella dello scienziato pazzo sia soltanto una figura leggendaria del folklore ma attinge direttamente dalla realtà e ha poi una retroazione sulla figura pubblica ovviamente dello scienziato con la sua trasformazione in cliché sostanzialmente la figura dello scienziato pazzo rientra un poco nel movimento progressivo di quotidianizzazione dell'immaginario fantastico e orrorifico che io qui per esempio riassumo con questa notazione di Giovannini da un libro Castelvecchi molto bello del 99 però appunto lo scienziato vero quello del laboratorio deve fare i conti con questo immaginario folkloristico perché ci mette davanti a un dubbio fondamentale cioè possiamo essere tranquilli di fronte a cose come l'ingegneria genetica le reti neurali la clonazione no ovviamente dobbiamo essere prudenti dobbiamo sapere che il rischio è sempre dietro l'angolo e quindi sostanzialmente il monito dello scienziato è dello scienziato pazzo è dobbiamo sgomberare il laboratorio vero del mondo reale da possibili scienziati pazzi ci dice questo ingegnere statunitense che è anche un divulgatore tra l'altro scientifico come interpretare la figura dello scienziato pazzo è diretta traduzione in termini figurativi e poi diciamo anche ideologici di un di un antirrazionalismo di un irrazionalismo di fondo questa mi sembra un po' interpretazione semplicistica si è parlato addirittura di scienziato pazzo come traduzione appunto figurativa di una psicologia della superstizione addirittura mi sembrano insomma interpretazioni un po' riduzioniste diciamo che ci sono due fattori fondamentali di cui tenere conto cioè lo scienziato è pazzo sostanzialmente perché ha una volontà di affermazione della propria ideologia scientifica molto forte che però non padroneggia perché appunto le cose gli sfuggono di mano e quindi sostanzialmente non riesce a anticipare le conseguenze delle sue azioni questo è un punto focale qua vedete alcune metriche che ci fanno capire come il med scientist è il fatto che il mostro sia di origine scientifica nei film horror dagli anni 30 agli anni 80 sia una presenza insomma quantitativamente rilevante qui vediamo anche appunto come ci sia una distribuzione molto non omogenea rispetto al ruolo attivo dell'azione dello scienziato come volontariamente malvagia o come del tutto accidentale rispetto a quello che la sua azione scientifica provoca in termini di threat di pericolo sostanzialmente gli errori molto spesso dello scienziato pazzo gli orrori nascono come errori tanto che ci sono delle figure di bilanciamento che in qualche modo vogliono rassicurare allo spettatore del fatto che la scienza alla fine della fiera è buona e quello dello scienziato pazzo è un cliché che traduce alcune eccezioni nella loro esagerazione il problema dello scienziato pazzo è l'idea che ci sia qualcuno che è un titano del sapere che crea i mostri cioè è il problema del metamostro del creatore di mostri questa cosa è ovviamente la più notata la più sottolineata fin dagli albori delle riflessioni su queste cose che un po' possiamo datare con questo saggio del 74 di Rostak a un certo punto questa figura ha un declino cioè dopo un apogeo incredibile attorno agli anni 30-40 la figura dello scienziato pazzo decade perché il boom della paura per l'energia atomica viene sostituito da altri grandi direbbe la filosofia inglese contemporanea altri iperoggetti come l'inquinamento o la minaccia ecologica in cui il ruolo della scienza non è diretto immediatamente come nel caso della bomba atomica e quindi come dire il pericolo attribuito allo scienziato direttamente stinge diminuisce c'è una causalità di tipo più accidentale rispetto alle sue azioni sostanzialmente come ci mostra molto bene Brodesco c'è un passaggio molto interessante nella figura dello scienziato nel cinema fantastico da distruttore a salvatore semplicemente perché i problemi si sono spostati la catastrofe ecologica ci fa pensare allo scienziato come qualcuno che ci può aiutare e l'11 settembre ci fa ritornare un'idea di terrore legata al terrorismo nascono nuove 6 sui 17 scusami ok sì sì sto veramente chiudendo grazie scusami chiudo velocissimamente diciamo emergono nuove figure interessanti di scienziato positivo il biologo o il virologo antelitteram degli anni 90 il matematico con Turing e anche le figure femminili qua c'è il primo caso di scienziato umanista diciamo una linguista quindi una semiologa in Arrival che è una figura totalmente positiva vado veramente iperveloce mi mancano proprio solo due slide diciamo che possiamo vedere un'opposizione di fondo che però è un po' ingenua e poi alcuni esempi cinematografici più contemporanei come Ex Machina problematizzano cioè storicamente lo scienziato è pazzo se si occupa della vita e la trasforma in morte quindi lo scienziato della biologia l'alchimista il negromante mentre le emergenti figure di scienziato del mondo della logica dei linguaggi artificiali come per esempio i matematici sono positivi ma come ci poniamo nei confronti di qualcuno che non maneggia il BIOS ma crea comunque la vita come l'intelligenza artificiale chiudo veramente sorvolando su una questione molto complessa e vado alla sintesi cioè gli scienziati hanno una loro filosofia spontanea e in qualche modo lo scienziato pazzo lo scienziato pazzo di cui praticamente si è parlato nella prima presentazione di oggi cioè l'idea di una natura monolitica unitaria oggettiva e conoscibile in maniera universale dalla scienza crea una serie di perversioni come appunto la figura dello scienziato pazzo mentre in qualche modo aspettiamo che il mondo dell'immaginario generi davvero figure di scienziati più contemporanei diciamo post feierbandiani come quelli auspicati dalla tour scusate se ho dovuto volare in conclusione ma non volevo sforare troppo e vi ringrazio molto per la pazienza e per l'attenzione grazie a te Gabriele sei stato perfetto nei tempi ti chiedo scusa io per il titolo ma l'ho riportato con due i e mi è venuto il dubbio quando l'ho letto poi che non avesse senso quindi nessun problema grazie per il tuo intervento devo dire che era cadeva perfettamente all'interno del panel anche perché in qualche modo ci dai la possibilità di riprendere un po' tutti gli argomenti che sono stati trattati in questa mattinata nel frattempo è arrivato Luca Bonfanti che saluto e a qui al più presto daremo daremo la parola ciao Luca buongiorno ciao Luca allora io se siete d'accordo direi farei un un momentino di di discussione insomma perché mi sembra giusto provare a riportare alcuni temi che sono in qualche modo firruge di questa mattinata prima di dare spazio alla allo speech di Luca Bonfanti mi sembra che in realtà tutte le tematiche che sono state trattate adesso non vado nello specifico ma abbiano i punti in comune legati alla relazione fra la tecnologia come strumento che viene presentata come una modalità di vita che tende a semplificare la nostra quotidianità ma che in realtà come sappiamo noi e come cerchiamo di far comprendere anche grazie ai nostri studi crea spesso delle illusioni no forse dovremmo essere dovremmo abituarci sempre di più e soprattutto spiegare e anche diciamo educare per quanto riguarda la parte formativa del nostro lavoro e del nostro ambito a considerare la tecnologia come qualche cosa di molto complesso che si può semplificare le vite ma rischia anche di creare dei semplicismi quindi insomma delle situazioni che poi diventano difficili da gestire questo mi sembra che sia emerso un po' in tutte le relazioni che sono state presentate questa mattina e non ultimo nella sintesi che Gabriele in qualche modo ci ha fornito nel senso che lo scienziato pazzo è veramente un po' la visione sintetica di questa possibilità da una parte di semplificare in maniera estrema il rapporto e le relazioni con la tecnologia con la scienza in generale a seconda delle varie letture d'altra parte è un po' quello che Federico ha cercato di presentarci devo dire semplificando un pensiero molto complesso quindi grazie per lo sforzo che hai compiuto perché ovviamente la tematica richiede un approfondimento decisamente forte ma anche lì è emerso il concetto di una tecnologia lo dicevamo prima che ha una posizione importante e che occupa anche uno spazio importante nella relazione uomo-macchina questa è da considerare nella produzione dei dati e di come i dati lavorano forse anche per attingendo un po' a quello che facciamo noi e al tempo stesso facendo sì che l'immaginario poi influenzi il percorso di costruzione di diffusione di divulgazione della scienza questo raccontava Roberto Paura ad esempio cioè il paradosso è che a questo punto gli scienziati sono influenzati dagli immaginari che altri scienziati creano o comunque che altri studiosi creano ma anche che come dire la comunità di utenti in qualche modo collabora a costruire a produrre a diffondere quindi c'è questo meccanismo di coinvolgimento collettivo che porta questioni legate certamente ha una visione di comunità di vita collettiva di condivisione che è uno dei fondamenti degli elementi rituali del rito delle religioni e delle credenze ancestrali ma che come ci ha dimostrato Vittoria sono molto presenti oggigiorno nella nostra realtà iperconnessa e peraltro il mondo iperconnesso e il mondo della connessione io sono convinto di questo è un grandissimo pianeta che si basa su dei riti anche solo il dover rispondere io penso ad esempio ai forum di discussione dei primi anni diciamo della prima decada del 2000 o comunque del periodo a cavallo con il 2010 per cui e anche se ci pensiamo i social cioè noi dobbiamo essere in qualche modo dobbiamo compiere dei passaggi che sono dei piccoli riti di passaggio per essere riconosciuti da una comunità da una collettività entrare a farne parte e poi eventualmente assumere dei gradi di appartenenza anche dei ruoli questi secondo me sono tutti piccoli riti di passaggio che noi siamo obbligati a compiere per essere riconosciuti dalla collettività che fa parte di quel gruppo di comunità poi questo probabilmente è un processo che come ci ha spiegato Vittorio si può vestire anche di significati intrisi di religiosità e poi c'è la questione trattata da Marco Tonone e da Anna Perazzone sulla posizione di questo scienziato assolutista che in qualche modo ritorna un po' essere anche l'immagine che ci ha fornito Gabriele dello scienziato pazzo che ci racconta l'immaginario collettivo eccetera e di nuovo di una scienza che tende che idealmente potrebbe risolvere ogni tipo di problema e sicuramente nello scienziato pazzo di Gabriele ma così anche nello studioso nello scienziato di Marco oggigiorno il virologo televisivo cade quasi perfettamente all'interno della descrizione non più bisognerebbe capire se è più o meno pazzo se ha una maschera o se è consapevole di questo oppure se in qualche modo ha l'influenza della community che gli soffia nelle orecchie del dover sostenere una posizione oppure no ma comunque queste mi sembrano un po' le tematiche che sono emerse su tutto domina lo spettro del grande Baudrillard che secondo me fosse vivo oggi si sarebbe suicidato penso o si suiciderebbe credo una volta al giorno perché vedete cioè il sistema di iper realtà che in qualche modo è presente nella nostra vita mediata e penso che avrebbe avuto come dire molti problemi a resistere a questo tipo di sistema detto con massima stima ovviamente nei confronti di Baudrillard che secondo me continua a essere un punto di riferimento quindi non era una critica nei confronti di Baudrillard ma era una forma di solidarietà postuma mettiamola così io vi invito se volete fare alcuni tipi di interventi ovviamente chiedo scusa se sono andato molto rapido sui vostri interventi e spero di non averli non aver non aver creato delle incomprensioni ma insomma mi sembra in qualche modo di essere riuscito a organizzare un discorso più o meno coerente Bruno a te grazie sarò rapidissimo avevo due domande la prima è per Marco ho apprezzato scusate questo è il mio whatsapp che fa bip lo chiudo un attimo tu pensa Baudrillard cosa ti avrebbe detto appunto evocato sempre a proposito Marco io come dire condivido pienamente quello che dici mi ha molto colpito quell'esempio che tu facevi della Norvegia no? dove evidentemente ci sono degli interessi che fanno sì che si accendano dei campanelli d'allarme rispetto a quel tipo di operazione cioè fare dei centri di stoccaggio per la CO2 d'altro canto mi chiedo non rischiamo però se adottiamo un paradigma come quello che tu proponi in toto di bloccarci nell'immobilismo cioè la scienza è ben consapevole di non avere la possibilità di abbracciare i suoi oggetti nella massima totalità sempre sa che pone una prospettiva sul proprio oggetto no? in questo caso parliamo di oggetti molto complessi come appunto il metabolismo del sistema Terra che ha una sua dove tu lo tocchi da un lato c'hai una conseguenza dall'altro e così via d'altro canto è anche vero che sicuramente progetti di educazione a lungo termine e quindi non roba veloce ma lavorare a partire dalla scolarizzazione per introdurre consapevolezza e spirito critico possono in qualche modo aiutare sul lungo termine a riparare alcuni danni ma al contempo noi dobbiamo quindi iniziare a pensare che qualsiasi operazione di intervento di possibile intervento come quella che a me in linea di principio sembra interessante cioè creare delle macchine che catturino che sequestrino la CO2 e in qualche modo la mettano in dei luoghi in cui non può nuorgere così tanto mi sembrava un'idea in via di principio almeno legittima almeno discutibile altrimenti oggi va così scusate questa è la diretta da casa come ne parlavamo ieri non lo so ho paura che cioè come ci confrontiamo con il fatto che o stiamo fermi per non fare danno oppure se ci muoviamo automaticamente facciamo danno te lo pongo come problema e poi a Gabriele velocissimo proprio rapido tu hai fatto una tipologia complessa mi spiace anche un po' che nella parte finale mi spiace un po' anche che nella parte finale si è dovuto andare veloce adesso mi taccio mancava secondo me una parola cioè genio non mi sembra che tu abbia mai detto la parola genio eppure nel linguaggio noi abbiamo l'enfant terrible genio e sregolatezza lo scienziato pazzo è comunque a suo modo un genio allora mi chiedo se questo tipo di figura parallela complementare eccetera possa entrare nel tuo orizzonte grazie grazie comunque a tutti posso rispondere? vai vai ok ma dunque a prescindere dal fatto che il nostro non è un discorso contro la tecnologia ma come questa viene in qualche modo con l'immagine che viene fornita della tecnologia come unica soluzione ovviamente le tecnologie presentano questi doppi aspetti da un lato sono assolutamente utili e quindi va benissimo investire soldi per cercare il modo di sequestrare la CO2 il problema è che se queste non sono soluzioni integrate ad altre in questo mondo complesso diventano la soluzione allora che è assolutamente deresponsabilizzante rispetto alla società civile cioè se noi ci affidiamo al fatto che prima o poi qualche di uno come si già sta facendo sequestererà la CO2 nella costa terrestre e questo non è comunque esente da rischi dopodiché nessuno sa dirci se tra 10.000 anni la struttura geologica cede e rilascia improvvisamente tutto quanto è stato sequestrato da sotto non abbiamo come dire la capacità di di prevenire questa cosa non abbiamo un'esperienza non ce la avremo mai perché abbiamo a che fare con i tempi lunghi però lasciamo in eredità delle future generazioni questi problemi aperti con il discorso delle scorie radioattive il discorso è che deresponsabilizziamo la società civile cioè tutti quanti noi possiamo dire vabbè ma allora che problema c'è continuiamo a usare l'automobili a combustibile fossile continuiamo a produrre CO2 continuiamo a consumare continuiamo ad abbracciare l'idea di una crescita continua e delimitata perché tanto comunque questi rifiuti in qualche modo li possiamo sequestrare da qualche parte come la folla idea di lanciare i rifiuti nello spazio senza tener conto neanche di quelli che poi sono non solo i costi ecologici ed energetici di queste ma anche i costi in termini proprio di denaro di queste grandi operazioni che ripeto sono sicuramente guadagno per qualcuno ma costi ambientali e poi per tutti quanti c'è sempre il problema che l'economia classica ancora non ha internalizzato i costi ecologici quindi ciò che appare dal punto di vista economico un vantaggio dal punto di vista ecologico è un enorme svantaggio che poi ridiventa uno svantaggio economico sul lungo periodo una sorta di debito sia ecologico che economico lasciato alle future generazioni non so se sono riuscito un po' rispondo velocissimo a Bruno sì c'è una questione di terminologia che poi ovviamente è di classificazione per cui lo scienziato è praticamente l'iperonimo il termine ombrello è il sapiente di fatto lo scienziato è knowledge è conoscenza e nel nostro caso quindi da un certo punto in poi diventa la scienza questa sapienza c'è tutta un'articolazione di termini che praticamente io non ho incontrato in questa letteratura super approfondita e che quindi sarebbe interessante andare a sondare genio ma anche inventore non è problematizzata la cosa cioè l'inventore è sostanzialmente relegato allo scienziato pasticcione quasi sempre no? diciamo che c'è l'idea che c'è una profonda irresponsabilità pragmatica poi cioè lo scienziato è pazzo perché non sa prevedere le conseguenze delle sue azioni perché scambia il mondo degli uomini che poi è tutto il mondo sostanzialmente come laboratorio insieme di provette e questo è il problema di fondo cioè lo scienziato è pazzo perché fa l'operazione di Latour di abbandonare natura e cultura però lui sta tutto dalla parte della natura diciamo di una natura ovviamente ideologicizzata ecco di un modello di natura che è quello che presentava Marco nella sua versione ipersemplicistica e riduzionista grazie Gabriele chiaramente chiedo se ci sono degli interventi delle considerazioni dico se no una cosa io promesso che ci sia qualche interesse io volevo invece stare sulla relazione di Roberto Paura ora do la parola Vittoria che secondo me ha centrato un punto che dobbiamo tenere sempre in considerazione cioè in realtà tutta questa roba diciamo anche un po' l'idea del percorso di ricerca di riflessione che è nata con Lorenzo e poi con Bruno e Mario nasceva anche da un ragionamento proprio sul ruolo di una certa divulgazione scientifica di un certo modo di di divulgare della folk physics e soprattutto anche della trasposizione diciamo così nell'industria culturale dei contenuti audiovisivi diciamo così dei format tradizionali della docu fiction e dei programmi della versione di intrattenimento diciamo così di un certo tipo di divulgazione scientifica e proprio tutta questa riflessione nasceva anche dal tentativo di indagare secondo me la relazione di Roberto che è molto è stata molto documentata e molto interessante ce l'ha ce l'ha raccontato di quanto un certo tipo di divulgazione scientifica in qualche modo entra dentro i meccanismi di costruzione di comprottismi di racconti paralleli di narrazioni alternative in qualche modo mettendo nelle mani di tutta una parte di spettatori una serie di strumenti come dire alternativi rispetto a metodi tradizionali in qualche modo vestendo tutto questo da intrattenimento se ne parlava anche ieri dell'aspetto di intrattenimento quindi secondo me questo è uno dei punti di partenza di questa riflessione credo sia stata una relazione molto importante non era tanto una domanda quanto appunto un'osservazione che mi sembrava importante importante fare e che ovviamente poi si lega a tutto a tutto quello che abbiamo detto questa mattina indubbiamente solo questo Vittoria prego grazie mille volevo fargli una domanda una domanda anche cercando un consiglio di Gabriele sul suo intervento è una cosa che mi è sembrata molto interessante quando parlavi di questa di questo stereotipo del scienziato pazzo ma pensavo anche se per te nel tuo nel tuo parere quest'altro entrava anche nella stessa categoria che è questo scienziato che vediamo tantissimo in film di sai di creazione cyborg di robotica di intelligenza artificiale dove il scienziato ha come dell'intenzione pure di creare vita dove non c'è ma la parte cattiva della storia anche un po' stereotipica e entra con la parte corporativa che cerca di prendere questo e farlo qualcosa non so come si dice in italiano la parte militarizzata eccetera se per te questo fosse magari un altro punto diverso un po' diverso della figura del scienziato che cerca un po' di sperimentare con questa fisis perché in questo caso nei pezzi metallici non sarebbe vita nel senso almeno dal punto di vista comune o più normale e se questo ecco sarebbe un po' diverso a magari quest'altro scienziato un po' tipo di human sentipede ecco che vuole fare un po' un caos con la la parte organica o la vita un po' equilibrata e vuole mettergli lì un po' della sua sperimentazione inescrupulosa non so se mi hai mai potuto capire brevissimamente ovviamente io ho dovuto a un certo punto veramente correre mettere la quinta perché anche volendo essere breve ho messo troppa roba quindi le varie tipologie sono molto più articolate rispetto a quella principale che ho proposto con lo scienziato nobile quella è quella più classica quelle più interessanti secondo me anche più semiotiche sono proprio quelle che problematizzano come dire il ruolo strumentale della scienza in quanto pericolo tipicamente nell'horror movie cioè come noti giustamente tu in molti film lo scienziato è strumento di pericolo e la scienza è totalmente strumentale rispetto a qualcosa che è esterna ed è il potere tra virgolette oppure i militari o le corporation come nota qualcuno che sottolinea il fatto che oggi probabilmente lo scienziato se fa paura fa paura non perché è pazzo ma perché è tra virgolette diciamo colluso con una serie di poteri forti il big farm tutte queste robe qua quindi c'è tutta una vasta gradazione in questo continuum per cui lo scienziato può essere pericoloso perché è ossessionato dalla sua ideologia di scienza a cui sacrifica tutto in prima misura gli affetti la famiglia Frankenstein eccetera oppure perché in qualche modo si fa inglobare in un meccanismo che non gli apparterrebbe e che è totalmente esterno ed è appunto politico in senso ampio e rientra in questo la corporation il complotto appunto del laboratorio segreto che è un altro topos e il discorso della militarizzazione che è molto forte se posso aggiungo che il tema della divulgazione è super fondamentale quindi è stato super interessante l'intervento di Roberto e secondo me come dire chi si occupa di scienze umane deve occuparsi di questo tema perché come dire non possiamo arrenderci neanche noi alla semplificazione per cui ogni discorso ogni racconto parallelo è pericoloso in quanto tale la mia idea è che per capire i complottismi dobbiamo in qualche modo essere all'interno di quel frame narrativo e capire come funzionano senza condannare tutto ciò che si pone come alternativa da un punto di vista dico proprio epistemologico chiaramente come condannabile perché altrimenti ritorniamo nell'ideologia buono-cattivo azzeriamo la complessità invece oggi la complessità come diceva Marco come diceva Bruno la dobbiamo spiegare quindi fin dai primi anni dobbiamo spiegare che lo scienziato non è Superman ma è un povero Cristo che si alza la mattina fatica, suda, prova e ci aiuta a conoscere un po' meglio il mondo diciamo un'immagine come dice Latour più scienze e meno la scienza di questo ambito secondo me ci aiuta veramente a migliorare un po' come funziona la comunicazione di questo ambito complesso accogliamo ovviamente tutti gli suggerimenti che stanno arrivando anche via chat con cui mi sento peraltro di condividere totalmente e sono anche perfettamente d'accordo con quello che dice Gabriele cioè anche a livello educativo o media educativo visto che comunque la media domina un po' nei nostri tecno educativi la logica è quella di sporcarsi le mani per capire come funzionano determinate cose e poi eventualmente per poterle riconoscere anche in ambito di complottismo di controllo e gestione delle fake news e di tutti questi percorsi paralleli che effettivamente usano delle tecniche che possono essere interessanti e che vanno conosciute molti di voi prima hanno parlato della retorica e di usi retorici Roberto ad esempio il stesso fermato lo stesso Marco capire come funziona la retorica e come viene applicata anche nell'ambito del complottismo e delle narrazioni parallele ci serve poi per comprendere come queste narrazioni hanno anche un'efficacia su cui le ascolta quindi secondo me queste sono delle dinamiche che vanno certamente prese in considerazione Signori io mi assumo anche un ruolo spiadevole e poliziesco ma cerchiamo di tenere appunto la mattinata in tempi umani soprattutto perché siamo curiosi di ascoltare Luca Bonfanti che ringrazio e saluto di nuovo che in qualche modo appunto parlerà anche soprattutto di questo quindi mi sembra un buon modo di agganciarci al suo keynote speech intanto ne approfitto anche per salutare e ringraziare chi ci sta seguendo via YouTube resistono ancora con il nostro sommo sbigottimento siamo felicissimi quindi grazie a chi ci sta seguendo con interesse ci sono persone che stanno lì e ci e ci ascoltano quindi questa è una cosa che ci dà molta soddisfazione e a questo punto appunto Lorenzo se vuoi magari dire due cose su Luca e introdurre il suo keynote speech lo presento volentieri Luca è un collega un amico un collega stimato con una grande preparazione una grande capacità divulgativa l'ho conosciuto personalmente proprio perché avevamo iniziato a ragionare su come poter divulgare la scienza e i concetti complessi quindi è una figura che secondo me cade perfettamente all'interno del nostro percorso Luca Bonfanti è docente presso l'Università di Torino di anatomia veterinaria ma lavora da molti anni poi lascio a lui una presentazione anche più accurata e lavora da molti anni all'interno del NICO cioè del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi sempre dell'Università di Torino all'interno di una ricerca che si occupa di plasticità cerebrale e di come dire lontanamente del percorso che riguarda anche gli aspetti di cellule staminali ribadisco che poi sarà lui a dare le specifiche migliori Luca è molto attivo dal punto di vista della divulgazione e della produzione di materiali divulgativi vi elenco alcuni libri alcuni testi che sono usciti negli ultimi anni le cellule invisibili il mistero delle staminali nel cervello poi la scienza fa bene se conosci le istruzioni che ha scritto con Armando Massarenti i recenti recentissimi l'enigma del neurone giovane che riguarda più strettamente la sua ricerca legata appunto alla plasticità neuronale e poi un libro interessante perché è rivolto anche ai bambini ai ragazzi che diciamo una letteratura più aperta alle nuove generazioni cosa c'è nella mia testa le 15 domande il libro che ti spiega tutto sul cervello che ha scritto insieme a Federico Taddia e a Pierdomenico Baccarario la relazione di oggi conferma il titolo della relazione di oggi conferma la forte capacità divulgativa di Luca conferma anche secondo me l'importanza che lo scienziato e lo studioso in generale deve avere di essere anche un po' ironico e autoironico il titolo della sua relazione è ciak si divulga ma è comico o horror e a questo punto Luca a te la parola e grazie per aver accettato il nostro invito va bene grazie a voi grazie a te per questa presentazione condivido lo schermo posso si condividi tutto quello che vuoi allora dovreste vedere la cover giusto giusto perfetto allora ringrazio De Nicolai che oltre che un collega è anche un amico e da tanto tempo che ci conosciamo anche se poi gli impegni ci tengono lontani quindi per me oggi è una bella occasione di ritrovarlo e di ritrovare voi e non c'è nulla da aggiungere ha dimenticato solo che sono un po' pazzo anch'io e quindi vado bene nel cliché che avete appena descritto io questo non l'ho detto perché lasciavo a loro la possibilità di scoprire intanto alla fine lo capiranno quindi allora io sì spero di centrare purtroppo non ho seguito ho seguito solo le ultime fasi perché sono preso sempre a mille impieghi impegni e quindi non ho seguito tutto il convegno comunque avendo visto la cover insomma la presentazione del convegno sui complotti eccetera questo problema che ci assilla io ho cercato di così di parlare un po' di quello che io penso della comunicazione della scienza e dei problemi importanti che ci sono e allora il mio il mio intervento si basa sul cinema l'avete capito l'avete capito cioè io non parlerò dei film che parlano degli scienziati ma userò le locandine dei film e i contenuti di alcuni film per esprimere i miei concetti e cercherò di esprimere dei concetti molto semplici e forti cioè io ritengo che siano delle cose forse banali ma sottovalutate anche un po' provocatorie e e quindi il mio intervento sarà un po' grezzo e ve lo dico un po' nello stile dei dei film pulp o trash perché voglio appunto lanciare questi messaggi e poi voi mi direte con le domande eccetera e poi spiegherò alla fine queste queste immagini o questi fotogrammi che ho messo qui allora io intanto volevo complimentarmi con chi ha ideato la cover l'immagine di questo convegno perché è veramente d'impatto cioè in un'immagine dà l'idea di queste cose assurde che noi siamo quotidianamente a cui siamo esposti no questo della terra piatta ma potrebbero essere quelli che negano il covid e così via siamo invasi da tempo forse da sempre di queste deviazioni e ci fanno ridere molte volte no noi ci mettiamo a ridere quando uno ci dice che la terra è piatta nel 2021 però poi ci accorgiamo che c'è poco da ridere perché e qui sta il mio sottotitolo no ma è comico o è horror o è drammatico questo e in effetti lo è perché poi dietro alle incomprensioni alle perdite di tempo di energia lo spreco di energia purtroppo che c'è in tutto ciò c'è il fatto che ci sono anche i morti perché nel caso stamina c'erano i morti nel covid ci sono i morti e così via quindi tanti più morti di quelle cose che magari fanno tanto scalpore in periodi lunghissimi sui media ad esempio il terrorismo sì è stato un problema ha sconvolto tutti ma alla fine quante persone sono morte il terrorismo in Italia neanche uno da quel che mi risulta quindi invece muoiono quotidianamente persone perché credono a delle fake news a dei complotti eccetera quindi io qui partirei con questo un film già visto cioè questo è un film che noi abbiamo già visto tante volte e ho messo qui due cose degli anni 70 no una è Carl Sagan che c'entra appunto con questo discorso perché sapete tutti è stato il primo grande divulgatore il primo che ci ha avvertito del pericolo di non divulgare la scienza di non far comunicare la scienza con la società e all'inizio è stato anche messo un po' da parte noi che contestato e ho messo qui anche questa cosa che io ho scoperto qualche anno fa il Club di Roma c'è questa associazione che alla fine degli anni 60 si chiama Club di Roma ma è una associazione internazionale che esiste ancora e che aveva segnalato i problemi di cui parlavate prima cioè della crescita che non può essere continua sempre espandersi e che ci saranno dicevano dei problemi legati all'inquinamento al clima eccetera e oggi siamo qui a discutere come risolverli senza aver trovato una soluzione quindi queste cose di cui stiamo parlando a quanto pare non hanno una soluzione facile e non ce l'hanno proprio attualmente quindi questo è il dramma e questo appunto era il succo di quello che diceva Carl Sagan cioè lui diceva guardate che il nostro mondo è fatto per lo più di scienza cioè noi siamo invasi in ogni cosa che facciamo quotidianamente nella scienza e nessuno conosce veramente che cos'è e questo è il dramma e lui diceva ci saranno dei disastri come conseguenza di questo perché questa cosa aumenterà nel futuro e in effetti è stato molto lungimirante ecco qua io ho messo questa cosa che comunque ha già detto Lorenzo sì io mi occupo di comunicazione mi piace non penso di essere un professionista anzi sono un dilettante e continuo a imparare però penso che è una cosa che debbano fare gli scienziati cioè non possiamo lasciarla soltanto ai giornalisti scientifici possiamo tentare magari di collaborare e dobbiamo fare questo ecco voi pensate allora che io sia qui soprattutto come dilettante o comunque chi ha in qualche modo fatto della comunicazione della scienza e gli piace farla e ci crede in realtà sono qui anche proprio come neurobiologo perché io vorrei parlarvi del cervello io finirò questo intervento parlando appunto del cervello in un modo un po' forte e dopo vedremo qui ho scritto le analisi non mancano ci sono tantissime analisi di questi fenomeni del perché la comunicazione non funziona del perché è difficile comunicare la scienza del come bisognerebbe farlo ci sono anche degli esperti che in effetti danno dei consigli utilissimi c'è chi lo sa fare però quanto pare le soluzioni poi scarseggiano e i risultati non si vedono e questo è il punto che dobbiamo discutere ecco io penso che alla base di tutto ciò ci sia un grande misunderstanding cioè dei grandi malintesi su che cos'è la scienza la maggior parte della gente non l'ha mai capito e io ho messo questa locandina di questo film non so se lo conoscete e penso che molti di voi sono cinefili Blood Simple lo sangue facile è il primo film dei fratelli Cohen secondo me insieme a Fargo è il migliore ed è un film che a parte è fatto bene ha una bella storia eccetera ma ha una caratteristica secondo me che in questa storia nessuno dei personaggi cioè tutti i personaggi non capiscono cosa pensano e cosa fanno gli altri cioè nessuno ha capito niente della storia e c'è questo intreccio bellissimo ma io penso che oggi sia così molta gente non sa cosa sia la scienza bisogna prendere atto di questo e le istituzioni quelle che magari dovrebbero finanziarla o dovrebbero occuparsi di fare in modo che ci sia una buona divulgazione una buona diffusione nessuno sa molte volte anche gli insegnanti non nelle scuole ecco ma questo perché anche per un fatto oggettivo cioè io ripercorro la mia storia non la mia vita io faccio il ricercatore più o meno dagli anni 90 ho iniziato nei primi anni 90 ma io ho scoperto che cos'era la scienza e sono diventato consapevole di tante cose solo dieci anni dopo almeno dieci anni dopo quando sono diventato ricercatore ho incominciato piano piano ho capito questo mondo vivendoci dentro e allora è difficile spiegare questo se non ci viviamo dentro e quindi ci sono questi grandi misunderstandi infatti io adesso ho usato la cosa per dire questa cosa la scienza di cui tutti parlano ma molti non sanno che cos'è questo è un fatto assodato e però bisognerebbe andare a quello di Carpentine è un remake sapete di un film degli anni 50 che si intitolava La cosa da un altro mondo e mi piace questa locandina in questo contesto perché è proprio un altro mondo cioè fare la scienza essere scienziato che poi ha ragione chi dice lo ha detto poco fa che lo scienziato non è né il pazzo né il genio e lo scienziato molte volte è proprio il povero Cristo che si alza la mattina e cerca di capire qualcosa per avanzare un pochino e ce ne sono migliaia decine di migliaia e quindi vive in questo mondo che però è un altro mondo rispetto a quello della così della percezione delle persone che non vivono in questo mondo questo può succedere anche in altre situazioni ma nel caso della scienza è molto forte allora qui si potrebbero fare tante analisi e vengono fatte quotidianamente delle analisi su quali sono le categorie che fanno che dovrebbero fare come la divulgazione le tecnologie le tecniche le modalità con cui bisogna comunicare la scienza c'è una grandissima letteratura ci sono tante opinioni talvolta contrastanti e allora io cerco di fare una sintesi c'è una grande confusione che non risolve questo misunderstanding in molti casi in molti casi soprattutto quando teniamo conto che ci rivolgiamo alla grande massa di persone qui non voglio essere impopolare non voglio essere lo scienziato nella torre d'avorio perché non lo sono proprio perché faccio questo dedico molto tempo della mia vita a questo quindi ci credo però purtroppo esiste una grande massa di persone che è difficile raggiungere a cui è difficile spiegare concetti complessi che non è facile semplificare allora in questa immagine vedete ci sono tre categorie in realtà manca quella più diffusa che non l'ho neanche messa perché non volevo sono i giornalisti generalisti che fanno dei danni tremendi e voi lo sapete cioè il giornalismo generalista chi non si occupa di scienza ma poi fa l'articolo sulla scienza di solito fa dei danni che li vediamo tutti i giorni sui giornali e talvolta in televisione eccetera quindi questo è un grande problema nei media di massa poi ci sono i giornalisti scientifici in questo caso quelli professionisti che sono persone molto competenti che hanno fatto delle scuole per questo quindi sono quelli che conoscono le regole e ne conosco alcuni che sono veramente eccezionali però il problema io ho messo Gastone perché sono un po' snob cioè loro fanno una divulgazione di alta qualità che però alla fine va in una bolla di persone che già un po' sanno o già molto sanno di scienza e quindi quella massa che dicevo prima che è il nostro problema non viene raggiunta da questa divulgazione poi ci sono i giovani i giovani che fanno dell'attivismo cioè sono quelli che sono nati soprattutto negli anni del caso Stamina quando c'erano state le invasioni degli stabulari sapete da parte degli animalisti estremisti e che fanno sono i neolaureati dei dottorandi che si sono messi a fare questa divulgazione talvolta anche bene ma fanno più dell'attivismo cioè loro vanno contro chi crea la fake news sono i debunker queste cose qui e poi ci sono i ricercatori e i docenti universitari che dovrebbero fare la terza missione io qui li ho rappresentati perché come dice Lorenzo sono ironico li ho rappresentati quindi ci ho rappresentati perché io sono uno di questi come dei dinosauri anche se hanno il capellino perché sono un po' lontani talvolta ce n'è di bravissimi però in molti casi non è così e poi c'è Burioni io non voglio adesso parlare di Burioni ma siccome l'ho messo nella cover Burioni è molto criticato a me piace penso che abbia fatto qualche errore in alcuni casi ma il problema è che lui non è un divulgatore che dovrebbe raccontare le cose adesso ci arriviamo lui è un attivista appunto cioè lui va contro quelli dimostra che si sbagliano nel momento in cui creano per cui io ho letto il suo primo libro mi è piaciuto molto è ironico è bravo non mi interessa sostenerlo però penso che non sia quello il problema ecco ecco forse quello che manca è una istituzionalizzazione una organizzazione una collaborazione tra queste che sono diventate un po' delle lobby questo è un problema io lo dico chiaramente tutte queste sono diventate un po' delle lobby chiuse che è proprio il contrario di quello che bisognerebbe fare allora poi c'è la terza missione qui era facile trovare le mission vedete che dovrebbe andare proprio al cuore a colpire il cuore dell'opinione pubblica cioè i ricercatori che dovrebbero uscire dai laboratori e fare questo questa è una cosa è una missione nobile se vogliamo sapete la terza missione perché si aggiunge alle due classiche missioni che sono la ricerca e la didattica dell'università ecco però io adesso è un po' forte quello che sto però vi avevo avvertito io alla fine sceglierei questo film qui cioè perché molte volte si fanno più danni di quello che è invece l'obiettivo cioè c'è una disorganizzazione c'è una frammentazione ci sono persone che si sono messe a fare questo perché ci sono degli incentivi perché l'università vuole spingere e allora tante persone che non sono in grado comunque non hanno un'organizzazione si improvvisano e questo sta diventando un problema e infatti io ho partecipato addirittura dei comitati sono stato responsabile in dipartimenti cioè e poi mi sono dimesso perché avevo capito cioè almeno mi sembra che non ci sia una vision non c'è una vision e questo è un problema che andrebbe affrontato quindi adesso cambiamo e parliamo del cervello no? perché io non sono un esperto di comunicazione vi ho detto le mie opinioni quello che rilevo no? da quello che vedo e però io penso sempre al cervello delle persone a cui noi ci rivolgiamo sapete che una delle regole è che uno si deve cercare di metterne cercare di mettersi nella testa del suo interlocutore non deve parlare per se stesso e allora qui c'è Mars Attacks no? l'avete riconosciuto sono gli alieni di Mars Attacks perché molte volte è un alieno o noi siamo degli alieni per lui no? perché c'è questa distanza che non è la distanza ormai obsoleta del fatto della torre d'avorio no c'è proprio il fatto che anche se io voglio andare a spiegare talvolta non ci riesco o non c'è una recezione sufficiente allora è questo che dobbiamo andare a esplorare e per esplorarlo io userò un po' la mia esperienza nella plasticità cerebrale appunto che adesso poi vi spiegherò un po' meglio e che è la capacità del nostro cervello di cambiare durante la vita anche sulla base degli impulsi che noi riceviamo dall'esterno delle esperienze di cambiare addirittura la struttura del cervello durante la nostra vita soprattutto quando siamo giovani allora per fare questo io per rimanere in tema vi racconto un film ok allora questo film parla di un giovane che odia che ama lo stupro e l'ultra violenza a parte poi Beethoven no? si chiama Alex vive in un ambiente molto degradato con una famiglia che insomma qui si vede il fatto che l'immagine talvolta vale più di tante parole no? io penso che molti di voi l'hanno visto questo film gli amici gli amici sono quello che sono perché vive in una zona molto periferica quindi gli amici hanno le stesse passioni di Alex quindi fanno delle serate dove cercano l'ultra violenza ad esempio no? questi sono gli hobby lo stupro quindi poi però viene in qualche modo catturato viene tradito addirittura no? e qui tradito dagli amici dagli ex amici ma tutti veniamo traditi prima o poi dalla vita poi ci sono le istituzioni che non sono sempre proprio gentili le istituzioni viste dall'altra parte la violenza che genera la violenza il carcere adesso ecco poi qui c'è l'elemento però fantascientifico del film questo film a un certo punto è fantascientifico è fantascienza cioè c'è un trattamento che dovrebbe far cambiare atteggiamento cambiare idea qualcosa nel suo cervello ad Alex e farlo diventare un bravo ragazzo fargli odiare la violenza questo è l'elemento fantascientifico ecco e dopo questo trattamento sembra che funzioni perché lui è diventato di nuovo è diventato un bravo ragazzo torna a casa poi vede che però le cose non vanno proprio benissimo come finisce il film il film finisce che lui vedete la scena dice sono guarito ma cosa è successo è tornato come prima è tornato come prima si capisce che tornerà quell'Alex ultraviolento allora Arancia Meccanica che tutti conoscete è un film degli anni 70 che era considerato sì un film violento eccetera famoso per quello ma è un film di denuncia sociale è un film di denuncia della nostra società che non funziona che crea dei mostri l'ambiente che va a modificare il cervello delle persone soprattutto quando sono giovani e dopo è difficilissimo se non impossibile tornare indietro perché perché la plasticità cerebrale ha creato questa struttura cerebrale quando noi siamo bambini poi quando siamo ragazzi poi quando siamo adolescenti dopo ci ritroviamo in adulti che raramente cambiano idea e allora pensiamo adesso torniamo a tutti questi adulti che dei complotti i complottisti tutti quelli che non capiscono la scienza anche quelli che magari ci credono ma non riescono a capirla perché è un mondo un po' alieno un mondo difficile da spiegare ecco secondo me di questo che dobbiamo parlare di questo che dobbiamo tener conto e allora qui bisogna andare in una direzione che è stata anche detta nelle frasi che ho sentito prima da qualcuno cioè bisogna andare alla scuola cioè bisogna fare dei programmi a lungo termine bisogna investire sul futuro bisogna investire sul cervello dei giovani e delle persone e allora bisogna parlare della ricerca di base perché cos'è che fa sembrare cattivo o pericoloso lo scienziato sono poi le applicazioni che fanno altri le lobby le company la politica non lo so le imprese cioè è quello il problema poi che ciò che è stato scoperto viene usato male ma lo scienziato è proprio quello che si alza la mattina e cerca di capire le cose quindi il valore della ricerca di base questo bisogna insegnare a scuola non le cose di fisica cosa sono le cellule staminali questo bisognerebbe dire nella divulgazione lì c'è scritto scuola e poi sotto c'è scritto media ma hanno lo stesso colore ma uno è scuola tutta soprattutto quella dell'obbligo ma fino all'università questi sono i media i media sono importantissimi abbiamo detto che fanno cilecca in molti casi l'abbiamo detto prima quindi bisogna creare una cultura scientifica parlare del metodo scientifico non solo delle cose dell'immunologia adesso che c'è il covid che tanto la gente non saprà mai cioè io mi ricordo qualcosa di immunologia che ho una laurea nel mio medico ma molte persone non ce l'hanno ho messo la foto di Silvio Garattini che è una persona che stimo tantissimo che è un ricercatore che ha fatto anche molta comunicazione e lui lo dice spesso lui è uno dei pochi che dicono sì fare la divulgazione ma dire queste cose dire queste cose a scuola per creare quello spirito critico che poi rende il cittadino pronto a capire gran parte della divulgazione quindi i fotogrammi all'inizio sono la mia scusate semplificazione perché ovviamente questa è una semplificazione la mia conclusione per il futuro che se riusciamo a educare i giovani di oggi per avere i cittadini di domani su vari fronti però anche soprattutto sulla scienza forse riusciremo a spiegare che cos'è la scienza perché è importante quelle cose che ho detto prima e allora non avremo più bisogno di burioni cioè degli attivisti che vadano contro ai complottisti e qui ci sono le mie scuse e le mie giustificazioni vi ringrazio perché è come un film quindi finisco così vi ringrazio per l'attenzione e se volete farmi delle domande ma soprattutto delle critiche se volete dirmi che sono stato troppo rozzo io sono qua e vi ascolto Luca grazie normalmente gli applausi si sentono noi qui li simuliamo ma li sento non solo insomma sono un po' tristi così silenziosi mi rendo conto sono un po' tristi mi è venuto in mente che noi abbiamo iniziato a lavorare insieme forse io facevo ancora il dottorato anzi sicuramente ero ancora nel dottorato proprio per fare il cortometraggio in cui raccontavamo la vita quotidiana dello scienziato il calcolo il calcolo esatto che è un cortometraggio che ha scritto Luca e che abbiamo realizzato con il centro di ricerca e che raccontava proprio la vita del povero Cristo quotidiano che va tutti i giorni in laboratorio per cercare di tirare fuori dei dati per dare sostegno e sostanza alla propria ricerca quindi in qualche modo questo è è un po' il firruge insomma beh io vediamo lascerei Giacomo se sei d'accordo lascerei un po' la porta aperta ai nostri amici colleghi vedere se ci sono delle sollecitazioni ce ne sono molte insomma sì evitiamo di parlare noi e lasciamo parlare i nostri amici insomma ci sono state un po' di osservazioni in chat mentre parlavi Luca a partire da Marco che non so se come dire vuole verbalizzare alcune delle cose che aveva scritto dimmi tu Marco sì grazie no ho solo commentato il fatto che mi è piaciuto il racconto del film dell'arancia meccanica perché mi è sembrata una bella metafora che è del dopo covid cioè nel senso alla fine di questa storia saremmo guariti e torneremo esattamente come prima questo commenta un po' quello che dicevo ieri no cioè io non vorrei tornare a quella normalità perché quella normalità aveva tante cose che non andavano e quindi in qualche modo questa esperienza dovrebbe modificare il nostro modo di pensare di agire e portarci verso una una nuova guarigione che non sia quella diciamo della sconfitta del virus dopodiché ho apprezzato tantissimo in un intervento perché in qualche modo torna sulle cose che dicevo all'inizio no cioè l'importanza dell'educazione l'importanza di far capire alla società che cos'è la scienza che cosa sono gli scienziati riportandoli come dire in questo mondo no la cosa interessante è che anche si associa sempre in modo abbastanza stereotipato lo scienziato al laboratorio come un ambiente chiuso come se fosse fuori dal mondo in mente bisogna far capire che tantissimi scienziati lavorano nel mondo e non sono solo chiusi dentro i laboratori questo è fondamentale perché fa capire anche come lo scienziato sia perfettamente integrato nella società nel sistema culturale e nel mondo naturale grazie Marco c'era Federico che magari raccogliamo un po' di osservazioni poi insomma Luca se vuole può solo un'osservazione velocissima mi è interessato molto l'idea di scienza che debba filtrare il proprio discorso della divulgazione come hai detto tu non ce ne facciamo niente di sapere di avere informazioni su come funziona l'immunologia eccetera ma più competenze trasversali che si insegnano dalla scuola che un po' intercetta il tema della sovraesposizione informativa della abbiamo parlato con Bruno e Gabriele su inquinamento semiotico dei media prodotto da una quantità di informazioni esagerata che non non ci serve nella sua totalità e quindi abbiamo bisogno di strumenti per filtrare questa questa informazione in qualche modo e al momento gli strumenti per filtrarla sono nuovi sono sempre altri strumenti che offrono nuova informazione solo solo questo commento volevo fare Bruno io come dire mi permetto se posso di darti del tu ti ringrazio ti farei una domanda che è a metà fra la tua professionalità e la tua biografia come professionista cioè tu sei di fatto uno scienziato in piena regola secondo come dire l'immagine comune della figura dello scienziato mi chiedevo se effettivamente cioè la mia la mia impressione almeno anche rispetto a quanto so è che negli ultimi anni si stia iniziando a integrare anche nel percorso universitario di chi studia le scienze cosiddette dure comunque le scienze dalle scienze naturali in avanti corsi di comunicazione o so di insomma amici colleghi che ad esempio vanno a fare dei corsi di formazione a chi fa medicina per costruire il rapporto medico paziente oppure per come spiegare quello che fanno nei media e così via mi sembra che sia ancora però abbastanza marginale come idea il fatto che sia necessario integrare quel tipo di competenze perché poi di fatto si producono i disastri che sono sotto gli occhi di tutti cioè dove che vedono come promotori del disastro proprio quelle persone che hanno le competenze scientifiche perfette rispetto al loro ambito di ricerca ma che poi quando si tratta di trasmettere quel tipo di competenze fanno pasticci ce ne accorgiamo quando quando una comunità scientifica fatta di virologi immunologi epidemiologi insomma tutte quelle persone che si occupano in maniera diretta di cose legate alla pandemia dicono allo stesso tempo danno informazioni contraddittorie la qualcosa da un punto di vista scientifico noi sappiamo bene è accettabile cioè noi sappiamo che in una fase contingente si possono avere due opinioni cioè due visioni che sembrano contrapposte però è chiaro che quando poi tu dai al pubblico quel tipo di informazione generi grossi grossissimi problemi allora qual è il problema di fondo secondo me è che probabilmente non c'è stata una formazione alla radice alla comunicazione né da un punto di vista dei singoli professionisti né forse anche da un punto di vista di comunità scientifiche e questo mi fa pensare anche che forse c'è una presunzione di poter essere capaci di parlare delle cose che si sanno fare quando invece magari non lo si è io sono un semiotico non ho alcuna presunzione di parlare di fisica ho la presunzione di parlare di semiotica di pormi come possibile istanza di mediazione ad esempio fra il pubblico e la scienza mi chiedevo tu hai esperienza diretta cioè tu stai notando che c'è un qualche tipo di presa di consapevolezza che questo è un problema o siamo ancora in alto mare quindi in una dimensione molto atomistica come tu descrivevi c'è il militante c'è il ricercatore però sembrano un po' delle figurine come tu hai messo nella slide che lavorano un po' di loro sponte sappiamo anche bene che la terza missione è ancora un miraggio nell'universo cioè più una locuzione ma è spesso soltanto una formula molto burocratica che ci costringe a compilare tanti registri per dichiarare di aver fatto una serie di cose ma non c'è un grande progetto di terza missione almeno questa è la mia impressione comunque grazie perché è molto molto stimolante posso rispondere a questa domanda adesso che la tua domanda è molto puntuale articolata e quasi perfetta direi però è molto impegnativa anche perché va a toccare diversi punti intanto vi dico che se volete approfittare di questa occasione per insultarmi visto che sono uno di quelli che ha creato il registro anche se l'ho criticato fino all'ultimo prima di dimetterlo l'abbiamo creato noi allora il punto è questo che io sono un po' un integralista in questo perché sostengo sempre sostenuto e continuo a sostenere che il ricercatore che fa anche questo quindi la terza missione per intenderci deve essere una scelta non deve essere spinto a farlo e può essere anche che sono una percentuale minima non so il 5% e deve farlo perché a un certo punto ha sentito un bisogno e ha voglia di farlo e allora prova e vede se è capace di farlo magari migliorandosi col tempo sul discorso della formazione allora sicuramente un po' di formazione ci va ed è inutile però formare quelli che poi non gliene frega niente o che no ecco a parte questo qui viene fuori un altro problema che il professore universitario cioè l'universitario è un absolute beginner nelle varie fasi della sua vita su tutte e tre le missioni perché nessuno ci ha mai fatto dei corsi su come insegnare ognuno ha sviluppato un po' giusto ecco nessuno ci ha mai fatto un corso di ricerca sì qualcuno è andato a fare una summer school ma la ricerca sì ecco è una delle immagini forti che usavo sempre quando andavo nelle scuole per spiegare il metodo scientifico come si fa a imparare il metodo scientifico cioè a fare il ricercatore e c'era l'immagine dell'orso del grizzly con i cubes con gli orsetti nel fiume che ci mettono tre anni guardando imitando la madre a catturare con la bocca il salmone che non è una cosa facile immaginate ecco e questo io dicevo sempre guardate che tre anni più o meno è un dottorato di ricerca cioè tu stai vicino a un'altra persona impari ma in modo diverso a seconda di dove vai ecco quindi noi siamo non siamo stati formati in modo formale diciamo su nessuna delle tre ovviamente questa è ancora più difficile cioè noi non siamo nati per fare questo c'è un neuroscienziato americano di cui adesso non mi ricordo il nome che ha proprio pubblicato un articolo sul journal neuroscience sul fatto che secondo lui noi come universitari avremmo sette caratteristiche lui elenca sette caratteristiche che ci predispongono a fare dei buoni divulgatori però ovviamente questo non basta io penso che sia una cosa bisogna far passare questo deve essere una passione cioè se io lo sento allora da solo poi se sono portato o no questo lo vedrò e poi andrebbe fatta anche in collaborazione con dei professionisti questo bisogna dirlo ma non c'è la possibilità di pagarli i professionisti quindi e poi c'è questo grande problema che io ho segnalato della terza missione che è diventata una moda cioè adesso bisogna metterlo nel curriculum è richiesto allora c'è il registro e allora tu dici che hai fatto e questo è diventato un caos perché è diventato l'obiettivo l'obiettivo non è più quello di fare tutto quello che abbiamo raccontato prima ma è di avere la certificazione che hai fatto qualcosa e lì c'è una grande dilettantismo improvvisazione purtroppo dipende da una persona all'altra quindi non so se ho risposto a tutto ecco c'è ancora un punto no c'è ancora un punto diverso questa è l'azione singola che ognuno di noi fa e secondo me è importante farla perché vuol dire che quotidianamente noi facciamo quel mini corso che dura tutta la vita no infatti io volevo fare la open university qualcosa di veramente organizzato che va avanti sempre per i cittadini allora diverso invece la comunicazione dell'emergenza cioè la comunicazione che deve fare il governo perché c'è il covid allora lì deve mettere gli scienziati a discutere o a litigare e poi dopo allora c'è qualcuno un professionista che sa cos'è venuto fuori e comunica quello per tutti spero di aver risposto a tutti hai risposto ti dico solo che sono d'accordo sulla questione che appunto dovrebbe essere volontario e che è vero che non si può fare una formazione strutturata perché è costosa perché è complicata anche in termini logistici no ci vorrebbe un dispiego di energie che non è immediatamente organizzabile però c'è anche un come dire un discorso di far passare anche semplicemente un sistema di buone pratiche no ad esempio è abbastanza assodato per chi fa un certo tipo di studi sulla comunicazione che la pragmatica per cui si fa quello che in internet si chiama blastare che è andato molto di moda e Burioni è diventato famoso anche grazie a questo cioè arriva uno scemotto qualunque scrive una scemenza e arriva lo scienziato dal pulpito che gli dà pubblicamente del cretino magari neanche dicendogli sbagli nel merito ma hai mancato un'acca o hai mancato un accento è abbastanza assodato che quella cosa lì sia controproducente da tutti i punti di vista lo scienziato dal punto di vista suo perde tempo l'utenza non è che quella cosa lì la recepisce e quindi dice oh mio Dio mi ha illuminato ho sbagliato io forse devo studiare prima di parlare eccetera no cioè quella roba lì se passasse un qualche tipo di comunicazione per cui se sei uno scienziato hai una responsabilità comunicativa quindi evita di insultare online le persone non è un messaggio tanto difficile da far passare però io ho il sospetto che chi fa certi tipi di studi probabilmente questo tipo di riflessione nessuno gliel'ha mai fatta in 20 anni scusa questo è un campo minato io non volevo adesso assolvere certe cose perché so benissimo che sono controproducenti io volevo solo distinguere volevo provare a proporre questa distinzione cioè chi va a cercare di blastare insomma di contrastare certe cose cosa che io non faccio mai io se uno scrive su Facebook una cavolata io non vado a scrivere no cioè quello lì andava recuperato prima io vado a parlare a quelli che un giorno non scriveranno quella roba lì che è una cosa lunga però quindi nel mondo forse nel mondo soprattutto in Italia per tutto quello che riguarda la scienza e la comunicazione della scienza manca una parola cioè un concetto che è la lungimiranza cioè non c'è lungimiranza negli investimenti della ricerca e non c'è lungimiranza neanche in questo perché non è vero che non si può fare la struttura dell'open university è difficile ci vuole tanto tempo non si può fare in sei mesi ma si può fare in tre anni e poi la si può far crescere piano piano ma non si vuole fare ok e allora però nella open university non ci metti il blastatore o quello che non sa e non ha voglia di fare la terza ci metti quella selezione di persone che l'hanno fatto e magari quei giovani che vogliono incominciare piano piano a farlo quindi la lungimiranza è la soluzione di tutte queste cose nel contingente cioè nel momento attuale quei cervelli adulti compresi i complottisti sono ormai consolidati al 98% sulle loro idee quindi è molto difficile far cambiare idea a una persona adulta mentre con i giovani è più facile è più facile ma non indottrinarli aprirgli la mente in modo che loro poi scelgano e sappiano interpretare cosa è giusto cosa è sbagliato cosa è più attendibile più autorevole eccetera è un discorso molto complesso Anna? Prima di che Luca Bonfanti svelasse questa cosa del registro di terza missione volevo proprio ringraziarlo tantissimo adesso ho qualche verbo ma comunque in realtà lo ringrazio lo stesso perché mi sembra che abbia messo in luce la cosa secondo me è sostanziale cioè che il problema sta nell'idea di scienza che abbiamo costruito culturalmente ed è questa idea di scienza che va cambiata fin da piccoli non so come dire io che mi occupo di formazione iniziale degli insegnanti lo so bene cioè so bene che il problema non è tanto la trasmissione dei contenuti di conoscenza ma il come questi vengono in qualche modo costruiti nella testa e credo che nessuno possa in qualche modo né occuparsi di formazione degli insegnanti per esempio e neanche in qualche modo di divulgazione scientifica se non si è posto qualche problema di natura epistemologica cioè di come si costruisce il sapere scientifico e questo secondo me è un po' la chiave cioè abbiamo bisogno di riflettere su come si è si è arrivati a costruire come si continua a costruire il sapere scientifico e formare gli insegnanti che formeranno in ambito scientifico i bambini e i ragazzi con questa consapevolezza che è una consapevolezza epistemologica prima che di contenuti lo diceva bene qualche d'uno cosa ce ne frega di sapere come funziona il sistema immunitario ce ne frega anche però il problema è come come questo contenuto viene proposto e secondo me in ambito scolastico gli errori grossi si fanno lì cioè su come i contenuti scientifici vengono proposti senza che in qualche modo vengano mai non so come dire proposti in modo critico disincrostati anche da certi stereotipi che in qualche modo perdurano ma da da 50 anni nella scuola e questa cosa qui è una cosa importante e così come si fa un gran parlare di delle competenze che noi docenti dovremmo avere dal punto di vista didattico teaching and learning insomma questa roba qui è una cosa che invece manca tanto anche a tanti colleghi docenti universitari e questo di nuovo è un problema grande anche perché appunto quelli che escono dalla nostra università al di là della formazione degli insegnanti della scuola primaria gli insegnanti della scuola secondaria oggi escono dall'università e vanno a insegnare hanno bisogno di 24 crediti per andare a insegnare e questa roba qui è gravissima secondo me proprio gravissima comunque grazie grazie davvero sì se posso dire rapidamente è una rivoluzione strutturale quella di cui avremmo bisogno e noi non siamo l'unico paese che è molto indietro perché anche altri paesi cioè non so ad esempio io ho la mia compagna è francese mi ha raccontato tante cose della Francia dove tante cose sono molto più avanti di noi ma altre sono drammatiche anche lì quindi è un grosso problema quello dell'investimento strutturale soprattutto sulle fasce più giovani perché ecco e io ho visto questo dall'altro lato io vado molto nelle scuole soprattutto nelle scuole secondarie vengo invitato a fare delle conferenze eccetera e ho visto delle realtà però rarissime di licei sperimentali eccetera dove questo si fa si fa perché c'è un gruppo di insegnanti che non è mai tutti ma abbastanza cospicuo che fa questo che poi invita le persone eccetera a me faccio solo due esempi per dire che la situazione è tragica anche lì perché ad esempio quando io andavo sono andato a Novara ad Alba per dire perdo comunque mezzamattinata non la investo però nel mio lavoro io la perdo e molte classi non potevano venire a seguire la conferenza anche se magari c'era l'auditorio un grande perché dovevano fare Dante questo me l'hanno raccontato che Dante si può fare benissimo anche il giorno dopo ecco e poi allora andavo a pranzo con il responsabile il preside della scuola e io chiedevo a tutti ma sinceramente dei vostri insegnanti quanti sono con spirito critico che hanno voglia e passione nel loro lavoro e loro mi dicevano tutti sul 30% e queste sono le scuole migliori dove delle cose venivano realizzate avevano dei laboratori facciano la PCR quindi è chiaro che questo è il problema il problema è questo e se pensiamo di nuovo alla plasticità cerebrale voi sapete tutti vediamo la parte negativa e poi la trasformiamo in positivo voi sapete tutti che i traumi infantili lasciano segni per tutta la vita talvolta addirittura gravissimi questo è per la plasticità cerebrale cioè il trauma in quel momento molto sensibile poi cervello è rimasto così voi pensate al contrario cioè se voi riuscite a essere nel cosiddetto ambiente arricchito l'ambiente arricchito è ricco di stimoli ma di far ragionare di fare collegamenti non solo fare tante cose voi pensate cosa potete ottenere dei ragazzini nel futuro nei futuri cittadini ecco questa è la soluzione a tutto poi burioni lo possiamo buried come si dice in inglese lo possiamo seppellire adesso mi scuserà però questo è quello che penso grazie io lo ripeto un'altra volta in realtà tutto un percorso che abbiamo cominciato ad affrontare con Lorenzo e poi con Bruno e Mario che è finito diciamo dentro questo questo convegno nasceva esattamente da questi punti qua cioè nasceva dal rapporto fra la messa in forma di un certo tipo di trasmissione della conoscenza la sua narrativizzazione il modo di di provare a a a costruire la trasmissione di questa conoscenza e soprattutto secondo me è un passaggio importante sul quale anche Bruno ovviamente ha insistito cioè sull'aspetto della polarizzazione che tu Luca individuavi in un certo fondamentalismo del debunking diciamo così che è sicuramente una cosa anche nobile nelle intenzioni ma che poi dal punto di vista effettivo concreto crea appunto semplicemente una polarizzazione un'incrostazione di posizioni preesistenti che non che non trasforma no che che non trasforma niente e quindi in realtà come giustamente dici tu è inutile andare a intervenire lì e bisogna intervenire un po' prima con lungimiranza che concordo diciamo così è un po' forse l'elemento sul quale soprattutto in questo paese diciamo non ci troviamo da questo punto di vista ecco signori si è fatta l'uno e un quarto io come dire con anche generosità vi manderei anche a mangiare e manderei a mangiare il pubblico che ancora rimane su youtube a vederci quindi sono contento e che ci potrà ovviamente rivedere in seguito perché tutte le le sessioni saranno online sul canale del dipartimento di scienze umanistiche e poi ovviamente le potremo rendere disponibili perché sono registrate Lorenzo vuoi chiudere tu io vorrei ringraziarvi insomma non non pro forma ma sinceramente e ricordo a tutti che alle 14 e 30 ci sarà l'ultima sessione che si intitola appunto immaginari e infosfera con la quale chiuderemo questa due giorni Lorenzo ringrazio ringrazio anche io in maniera del tutto informale nel senso che grazie è la parola più comoda migliore ovviamente grazie a Luca Bonfanti ero certo che avrebbe portato 20 minuti 30 di un racconto a sua volta molto accattivante e quindi non mi ha smentito neanche questa volta e ovviamente ringraziamento a tutti voi che avete collaborato con i vostri interventi a rendere questa mattinata densa ricca gli spunti come al solito sono tantissimi qua ci sono le solite frasi da convegno ormai c'è un catalogo il frasario da convegno a me piace molto il frasario da convegno sì perché però obiettivamente è così è da ieri mattina che raccolgiamo degli spunti delle indicazioni estremamente interessanti e valide faremo sicuramente la cena sociale appena potremo magari fra sei mesi un anno visto che non l'abbiamo fatta ieri ci prendiamo l'obiettivo di fare la cena sociale a distanza anche a distanza temporale facciamo quella virtuale come sette chili in sette giorni perfetto facciamo quella esatto la psicocena a proposito a proposito di racconti paralleli facciamo la psicocena così Luca ha un'altra locandina da inserire nel suo nel suo percorso e ci vediamo questo pomeriggio grazie infinito a tutti davvero per la vivacità di questi momenti grazie a voi arrivederci grazie ciao 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 a tutti a tutti a tutti a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti